ho paura anch'io è ansioso c'era la canzone cosa cazzo ci aspetta Gerry io pensavo era un rast un rast poi mi dicono che ha una trama come? ha una trama? eh io ricordo l'ho vistucchiato poco però ho visto proprio robe inquietanti ciao Giorgino ma come robe inquietanti? si ci sono robe inquietanti ci sono delle caverne che sono inquietanti dai tu mi avevi detto che non era un horror tu mi avevi detto che era un survival no vabbè ma non è proprio oro c'è giusto alcune sezioni non ti preoccupare Gerry non ti preoccupare io non guardo cazzo io faccio andare avanti a te in le caverne cazzo ciao Giorgino io faccio andare avanti a te in le caverne cazzo spero che metto entrambe le chat cazzo che è Giorgino porca puttana io faccio che metto entrambe le chat Giorgino qui non ci sono molotov non ci sono le molotov non lo so non lo so però mi pare che i nemici abbiano tipo delle torce qualcosa del genere non lo so con sicurezza ho paura aspetta che... ok go come si piace a mettere la chat? c'è pure il VR davvero? e che esce pure il VR? non lo so si può pure far giocare in VR per me è follia ROXAS Raffaele 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 ma sai che a partita unisci ti alla partita ma mica si basa sul nostro server sulla nostra connessione vabbè abbiamo la fibra che cazzo vabbè quanto hai? perché io non ho questa grande fibra quanto hai? c'ho 188 mega eh io c'ho 100 mega faccio io? si fa la 3 allora perché se Conte considera c'è la 1000 Conte? si a Roma c'è la 1000 ce l'ha The Forest eh no e allora 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 Joe eh Joe Jerry attentamente difficoltà normale difficile sopravvivenza pacifico no pacifico no si esclude a priori partirei io mi sono cosa ci aspetta non ho capito non ho idea di come sia il gioco quindi non saprei che dirti difficile dai facciamo quella la via di mezzo sopravvivenza mi sembra esagerato normale mi sembra da pushy facciamo difficile si fai il medio quello lì fra i due facciamo difficile giocatori due privato sì nome eh la foresta di liquid e Jerry che è duro sto gioco dice Joe meglio cazzo ma l'ha giocato Joe? non lo so mi pare abbia visto qualcosa anche lui ti invito Jerry preparati cazzo sei stato invitato nella lobby la foresta di liquid e Jerry ed è un ovvio riferimento ai nostri peli pubblici ci facciamo le zatte leghiamo le tartarughe ho fatto inizio Jerry aiuto in attesa dell'ospe inizia la partita dice avviato c'è caricamento attento all'uomo col pappagallo puoi recuperare energia riposandoti sulla panchina eh? ma che è non è una foresta un parco pia sono tornato in live ma le panchine? dove sei Jerry? dove sei? eh sta caricando show the forest ancora l'immagine come ha detto io venite snudi ma eh ma what? io vedo cosa vedi Jerry? è bio shock infinite ma cosa vedi Jerry descrivi cosa vedi eh c'ho un aereo sono con davanti un televisorino quelli che sono sugli aerei di linea c'hai un bimbo sulla destra? no ah ok perché c'è un bimbo te? si mi sa che sei qui sei qui da qualche parte sei in questo aereo oh cazzo mi vedi a sinistra sei tu quello a destra? io non c'ho nessuno da mia sinistra c'è uno davanti a me lì qui c'ho un problema perché quale problema Jerry? non lo so io non so se lo deve fare io sono stato in un aereo ma non era così hanno già rapito tuo figlio? hanno rapito tuo figlio? ma perché abbiamo un figlio? ma che cazzo abbiamo un figlio io e Jerry cosa? qui si parla di peli al massimo aiuto Jerry che succede? che schifo è ah sta cogliendo un bambino si Pia fai la line condivisa così possono seguire entrambi contemporaneamente ah ma adesso è questa terra? stiamo precipitando Jerry cazzo è tuo figlio Jerry no Arta Arta aspetta ma te dove sei? ma sei qui? sarò nell'isela desnuda no stanno prendendo mio figlio Jerry ah ma te sei ancora in quell'animazione a me l'hanno già preso da me è tuo figlio quindi? c'è un batusso di due metri che ha portato via un bambino mi chiede mi sono spaventato lo avevo molto vicino ma se te è questo Jerry dove sei? si Jerry vedo dei piedi c'è te Jerry ciao c'è rta liquida c'è 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 bello l'ho giocato di Raffaele perché io non sapevo che era c'è una trama io pensavo che ricasco survival che è successo che era? ah stai andando la togna dovevo assicurarmi che fosse morto ma è già facendo cannibalismo cazzo mi unisco i cannibali cazzo ciao guarda anche da me castino gridolo micchi micchi ciao belloni boia ma puoi aprire le cassette cioè te l'ha notato il piccozzo si ce l'hai ogni tanto si sente l'eco ecco di cosa ah ma forse è da te anche ieri su da solo faceva però l'ha sempre fatto non gli ho mai dato peso non mi pare ci sia però oddio c'è un uccellino già riguarda no stavo racquendo valigia io un uccellino mi siano attaccato sul braccio mandato via ho scritto a quelli che giocavano su youtube e l'hanno fatto in tanti è bello prevedo una convivenza sull'isola trevedda vicchia se mi si mangia cadavveri cazzo è pericoloso io non dormo io con l'occhio sto sveglio cazzo ma ci tutte le valigie le voglio aprire perché magari c'è del cibo ma come si apre aspetta contando trova qualcosa da mangiare con E con E sto prendendo roba con E Jerry ti sorrugge foto Yama 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 come sei solare oggi ma è la luce c'è tanta luce toffa accendino vabbè questo è piccozzo questa cosa fa medicinale ripristina la salute vabbè se il mio zaino una roccia uno spuntino che lo mangiamo come si inizia ogni volta bisogna raccogliere il legno ci hanno detto che ha scritto la carne delle ore è tenerissima nooo che era ma stai sparando che cazzo è solo ma no sto colpendo la valigia ma non si ha ma forse non è sì è una valigia sembrava un come dicevo che non c'è Arta è fazzonata come potremmo morire finalmente liquid su the forest nooo non moriremo cazzo no no non rintagliare Arta non manda suoni maledetto cacchi davvero sta facendo stronzo oh oh ho aperto ho aperto una valigia col pendola Gerry dentro c'è? sì aspetta che non cade medicinali stoffa un sasso oh cazzo sta cadendo il tronco occhio liquid dove sei? eh non lo so ok uno spuntino ho trovato uno spuntino ma così ne raccolgo il legno guarda liquid aspetta c'è un falegname cazzo oddio gg mettiti la camicia a quadri dai oddio ma non è che devo trovare tipo uno spiazzo per cercare di farci un accampamento aspetta aspetta appoggia la conacqua un attimo ma il cibo potrebbe essere quella specie di intestino a destra io non trovo il mio menu degli oggetti però ne devo prendere pure pure tu ii ii se per me c'hai l'inventario ah ii ok c'è foglia stoffa oh ii questa merda aiuto che è? non si toglieva quanto grosso allora c'è un spuntino mangiato cos'ho raccolto? cos'è? c'ho un accendino due medicinali ho trovato una palla da tennis liquid non so cosa può servire boh stoffa boh l'ho lanciata ok la sete c'è abbiamo fame gerry dobbiamo trovare cibo mi sa che sta bene a me non me lo dice no ho mangiato una merendina no no che fa no no sto facendo un palò per sbaglio gerry non guardare come sapete un palò perché? non lo volevo fare non lo volevo fare ho portato le paligie cazzo un tipico toglialegna calenadese esatto andiamo aspetta aspetta fammi prendere i tronchi perché se a me c'è da metterli in una piazzola la pallina da tennis l'ho presa anch'io cerchiamo uno spiazzo che ne so alla raste cazzo raste in segna ok cerchiamo del c cerchiamo del c tipo qui ma se tu è sterba per forza cazzo c'è un coriglio uccidilo gerry con il tronco lo voglio eccolo dov'è dov'è è qui vabbè è velocissimo come cazzo lo abbaso ma ce n'era uno anche qui sono abbastanza sicuro no facciamo qui in riva al mare ricarica l'estus non muore ma ho accettato un uccello non muore ma c'è una barca oh ok ho preso un uccello gerry suona malissimo no vi dovete costruire le cose di prepotenza subito bisogna costruire ma è questa barca la lottiamo ci sarà roba dove sei arrivo arrivo ma come mai c'è questa barca dove la vedi la barca il coniglio c'è il coniglio dov'è è lì va bene ma è velocissimo come cazzo prendilo gerry dove è finito fallo affogare in mare questo bastardo ah ah è qui cazzo niente che era quel rumore c'è gli sassi secondo me chi sa uh gerry le tartarughe possiamo cominciare a legarle stai scherzando muori puttana muori strozza ok abbiamo una tartaruga gerry no che cosa brutta ho visto che cosa orribile voglio la testa ok no oddio gerry guarda gerry guarda cosa ho in mano no ok che schifo stavi lontano oh ma ci sono degli squali qui spiaggiati gerry non li avevi visti no che schifo non la voglio la testa però che schifo oddio che è successo perché ho fatto questo salto non lo so gerry occhio quando mi colpisci perché tu fai dei salti incredibili bevi l'acqua del mare per dissettare vaffanculo castino no mi devo riprendere il minecraft in hd no ogni tanto quando parla gerry si sente l'eco sembra che sta in un grosso bagno e io cosa non è ma senti l'eco wiki ho trovato delle pile penso in te andano da me ma non capisco come è possibile non lo so lì qui sei un mostro micchia non è fionda ma che devo farci ma non c'è uno a fare che con l'elenco che voleva craftare gira di gerry tieni è per te che schifo che schifo stavi lontano cazzo ah bb guarda per i b per aprire manuele sopravvivenza ah si è quello che avevo aperto io prima per sbaglio non riuscivo a chiudere ah c'è il crafting poco base oggetti richiesti ma non è poiché le mie le bastoncini e sette foglie di aiuto delle foglie si va così tante no fa il sette sono tante come ne ho prendiamo 10 10 ce l'ho e quanto ci servivano ero del chiuso cazzo qua 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 gery l'ho messo qui guarda girati qua lo vedi anche tu ok si si metto le foglie bravo jerry vai le foglie le ho messi ma ho ancora i lignettini i lignettini ne avevo trovato uno mi sa che ah l'ho lasciato su quel foglio che ho creato prima per sbaglio cazzo aspetta va buttando giù gli alberi dovrebbe darvi dei lignettini no? hai hai trovato da mangiare tu per adesso? eeeh l'avevo trovato ma mi ha rilevato vita perchè ho fatto un salto in naturale oh merda che cazzo c'è qui cosa? c'è uno spuntino se vuoi no ma non mi sa che non posso dropparlo no ho trovato un'audiocassetta il culo what? apri le valigie jerry c'è il cibo dentro aspetta 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 fammi capire se no aspetta forse è così spegne i lignettini guarda questi qui piccolini stardo gabbiano di merda ecco forse li ho presi vediamo si perchè se ci conviene passare l'ottima ci conviene passare vicino al bar wiki grazie del follow te lo dirò io lì l'ho ucciso un cappiano l'ho ucciso un cappiano l'ho ucciso un cappiano bravo jerry l'ammazzolo anch'io l'ho preso tieni buona testa lì qui oh jerry vieni a vedere c'è qualcosa di bellissimo cosa? sotto i tuoi piedi jerry dove? dall'altra parte qua jerry davanti a me davanti a me dove ve nulla come? cosa c'è? c'è un ragno gigantesco cazzo non lo vedi? no ok morto che schifo meno male non lo vedo neve sta testa cazzo buttala via sta testa non lo vede ragazzi meno male cazzo ho chiamato il wwf premi c per annullare ok la prossima volta mi ricorderò dov'è il falodo? dove l'abbiamo messo? lì lì a destra ora teoricamente dovrebbe partire vai l'ho creato guarda cosa hai mano cosa c'è? eh la testa del gambiano che abbiamo preso che schifo perchè possiamo prendere le teste di animali questa cosa? ma posso mettere a a cucinare si penso di si eh 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 ok 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 poi metto il ho messo la ecco ah vedi hai rimesso le foglie per alimentare il fuoco dice le foglie quindi hai capito dove si trovano? no le avevo nell'inventario mi sa che l'ho preso per sbaglio cazzo no aspetta faccio un salto io in quella barca vediamo se c'è roba ma che combinate ciao capla caa capino aspetta eccole qui le foglie le ho trovate cazzo 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 che è successo cazzo ok cazzo è velocità ci vuole un'arma da lancio ci vuole un'arma da lanciare cazzo mi sa che ho l'inventario pieno vai preso ok ah ho preso foglie già arrivo ah mi manca l'acqua sono a metà della goccia mi sta illuminando di rosso non prena quella del mare no 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 cazzo no voglio che ci dano squali insieme a te ma la carne si può come si prende la carne perchè sto qua sta bruciando con e con e tributo e ho questo qui mazzalo no ma la mangio direttamente ma non volevo mangiarla direttamente si mangia solo direttamente quindi critical hit ma non possiamo tenerla nell'inventario a vedi ai sedi trova dell'acqua pulita da bere sto mangiando carne su carne mangiare un po anche tu cazzo ma se io prendo quest'acqua e la metto sopra il fuoco la purifico ok vedi così alimento come la prendo c'è un contenuto mancano le testo questo però però che credo la parola di dal sole che cazzo è il 160 p vanno di moto quanta roba c'è da craftare tu non hai idea ma ma m'hanno dato ma m'hanno dato davvero il multi quality non stremo da una settimana m'hanno dato il multi quality oddio che c'è che c'è sto guardando il craft sono volato via colpendo la testa l'ho avuto paura ascoltami troviamo i tronchi facciamo la casa ce ne vogliono un po ok fate come bergreens ok ok comunque siamo stati bravi dai non siamo morti di fame nei primi dieci minuti di gioco però la sete sto per morire comunque eh aspetta vediamo c'ho due bevande io non so se posso c'ho anche un altro cazzo piuttosto che abbazzo richiede non faccio queste cose c'ho sei bastoncini cinque rocce lascia le medicina e io ho un mondo grosso ok e non mi fa danno se mi cade in testa ok c'è dall'altra parte gg ma c'è un po' non posso dire quelli che abbiamo allora ma te ne posso prendere anche più di uno insieme vediamo uno cosa stiamo prendendo i tronchi di tagliare gli alberi anche te insieme li posso prendere no è caduto appena io ho fatto l'attività ma si può mettere anche qui a questo io l'appoggio qui per ora sai quando ne servono i tronchi facciamo che non te lo dico per ora va bene io taglio allora taglia taglia voglio tagliare cazzo non so se ci conviene farci prima una capannina prima della casa grossa si giusto per sopravviare la prima notte quanto manca la prima notte liquid liquid c'era uno che cavolo addio guarda scappa zeri mi stessavo che eri te come pensavi che ero io come hai fatto a confondermi mi guardava cazzo ma viene verso di noi se si so con di notte diventa un horror io ti avverto stai scherzando lo picchiamo? ma magari ti vuole dare una mano liquid ah no guarda pussi guarda che pussi non è sparito pussi si ma io voglio i miei tronchi cazzo ho stato tre ore a tagliarli e li voglio bastardi di notte vi linciano? eh infatti è tramonto eh mi sa che per quello non so no no fai vedere se trovi una capannina è troppo grossa che le devo fare ci serve una capannina piccolina almeno ok puoi dirmi quanti tronchi ci servono almeno so se devo panicare o no eee per fare la capanna di tronchi 82 ma che cazzo dici? ma che cazzo dici? facciamo il rifugio temporaneo il rifugio temporaneo servono 26 foglie e 14 tronchietti stacchettini di legno 14 foglie? facciamo quello facciamo quello ma come cazzo fai a creare una? oddio è già buio è già buio dici ma se stiamo vicino ai falori non ci fanno nulla e che cazzo non so mica animali eh non sai che sono degli orsi quando siete a scoparsi di sangue fatevi un tuff in acqua altrimenti avrete problemi ma io ho paurissima aspetta 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 io ho paurissima no 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 ok due foglie quattro foglie ma vanno giù aliveta no è buio sono fottose cosa che serviva quindi e non mi ricordo gioco aspetta io ho 10 bastoncini e 22 foglie 26 foglie 14 bastoncini 14 in uno spazio cazzo si 14 vedere giochi cominci a imparicarsi la cosa più bella in mondo dai ma non sono imparicato perché basta che stiamo vicino il focus dove loro hanno paura dai fatto si vedevo qui le che c'è che hai visto guarda ho fatto un bastoncino ma aspetta no no non mi interessa ma possiamo fare una zattera ma perché mi hanno dato delle monete cazzo le zatteri animali non ci prenderanno qui bastardi e non ci prenderanno gli squali c'erano 4 sticchi ma vai via costa testa da gabbiano cristo non serve ii sono cacati in mano per il cazzo di fondo cosa è successo mi sono follow quando ho avuto paura a cazzo grazie gennaro per il fondo niente piano non si riesce ascolta ascolta mettiamoci per ora dobbiamo passare la notte non riesco a craftare in questo momento aspetta un attimo perché non andate sulla è vero la sua parca dietro di noi mi guarda il libro è perché ho sbagliato non volevo aprire la barca è dietro queste rocce davanti dell'acqua però se ci sono gli squali moriamo porca troia ho paura adesso è buio non vedo un cazzo non posso accendere sto bastone penso di sì no no non spegnerti cazzo ma non stanno venendo non stanno venendo stiamo passando la notte ma non c'è un orario nulla forse la prima notte ce la danno buona non c'è un grattacolo fortissimo ho fatto buggy car perché il polio allora creazione sanno nuotare niente come questo giocai ma c'è una piccola capanna che si può creare 13 tronchi 13 tronchi non stecchettini anzi c'è rifugio no rifugio di caccia no piccola capanna vedi a 13 ma a te ne eravamo sette le ho messi aspetta le ho messi qua eccoli qua e qui lo avete visto qua su qua su qua su qua ok ok 1 e 2 riprendere anche due alla volta può prendere si si quindi quanti ne abbiamo ok è bisogna andare a prenderli l'altro chiuso davanti a noi ecco il cazzo che ci vado come l'hai acceso la aspetta dobbiamo fare l'inventario e poi lì c'è l'agentino dice però giochi e dove fare un letto per salvare facciamoci prima che si muore noi aspetta come si fa il letto prova a compiere la faccetta con del tessuto usare l'accendino e mi accetta con del tessuto grazie al bug riesco a vedere meglio ok no cazzo dai ci provo che è arrivato da accendere c'è vado a prendere i tronchi l'accetta e poi con l'accendino combina un passino mio ciao roxas grazie per essere passato e ora l a guardo sotto fuoco sotto fuoco alla cos'è stavolano di freddo mi sa ad un giro fallo 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 si è spento le foglie le foglie non era qui hanno qui mi chiamano come su vicino la capata cazzo alimenta che ha sbagliato la carne cazzo hanno forse il bagnato forse non è il freddo il bagnato come si è già spenta se guardi c'è pure una cosa che puoi trasportare la legna tipo un carrellino che l'ipotermia pure però già che non sono arrivati e tanta roba no non vengono in spiagge ragazzi piove jerry si aspetta perché più è cazzo mi chiamava prima notte che piove di già sei serio che sfiga asena di qua c'erano delle valigie andiamo a prendere che si vede un po meglio ora andiamo ma non prende fuoco la casa con quel fallo lì accanto no 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 è tutto calcolato ma l'accendino è infinito vero mica si spegne stiamo morendo di freddo se si scarica l'accendino è la fine si almeno che non impariamo a farci le torce ok questo è l'apparecchio ma noi ci serve acqua cazzo io sto morendo di sete se bagnate è freddo accendi un fuoco per asciugarti e ho capito vuole questo tessuto non mi interessa adesso non mi... funziona ok pia ha creato un link per vedere entrambe le live in contemporanea oh mio dio è magia mamma mia mando il link bravo gio aspetta vai l'ho riavvivato un po no ma non ci serve da bere io voglio la carne si si l'ha già messo gio guarda mia non me lo fa hai fame trova qualcosa a mangiare ce l'hai davanti coglione prendila geni non mi vuole prendere da mangiare vuole morire non lo prende che cazzo era cosa non lo so mia persona ce l'ha sofferto tipo mi sono spaventatissimo saranno i ragni magari ci sono i ragni no torno qui allora non lo lontano mai più cazzo si stai spaventato non mi fa prendere il cibo come si toglie sto cazzo d'accendino non lo voglio più togli sto cazzo d'accendino d'accendino basta che tieni premuto E a vicino che tieni premuto E ah io continuo a premere veloce e merito il suo coglione si ma non si è alzata la fame ma che cazzo che cazzo è non c'è niente per terra GERRY GERRY guarda lì guarda lì cosa c'è guarda lì arrivano non vengono arrivano oddio corrono no 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 non vengono 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 fanno finta stanno bleffando che cazzo è sono loro sono loro sono loro per intimidarci ma che sono dei di di jaguari a strozzi vai via pezzo di merda è la prima del palo GERRY GERRY cazzo sinistra a destra una sinistra a destra occhio che cazzo urla che cazzo è che mi sta facendo ma ma è la sete merda GERRY sono in quattro adesso liquida è finita io non lo so da vivo il valore il dubbio butta le foglie che c'è l'ho non lo so allora o andate via a bazzardi a sista non ci sono o corriamo a sidi no no restiamo qui ci seguono finchè non attaccano restiamo qui cazzo sto morendo per la sete che non posso nemmeno fare uno questi sto scrivi qua ragazzi è l'ultima possibilità per far vivere gery c'è un modo per troppo adora per te lo so ma prendi la tassi in alla per terra ho copito no lascia stare gery figlio di puttana scappa geri cazzo moriamo di freddo se già allontaniamo cazzo dove sei lì? torniamo al palo torniamo al palo vieni! vieni qui gery no no lasciatelo stare pezzi di merda mi pigliano giorni sono visto di sé mandati in acqua col se vado in acqua è peggio perché ci mangiano gli geni dove cazzo all'aereo te sei morto no no jerry sto combattendo valorosamente cazzo ma io non voglio stare qui al buio vaffanculo un pezzo di merda grido grazie per il follo aiuto gerry io non mi muovo di qui liquid no ma arriveranno anche da te gerry vieni qui c'è il buio davvero buio c'è buio buio cazzo ok si stanno allontanando gerry li ho spaventati e devo venire io da te eh si c'è tre si sono ritirati ne è rimasto uno e continua a fa il coglione io ho paura che ci sia attorno a me qualche uno liquid corri gerry non ti fermare corri tanto non abbiamo camminato tanto prima ma dov'è l'accetta? non mi rieda più l'accetta? merda vai via dove sei liquid? sono ancora lì gerry provo a correre sono rimasti in tre si ma non muoiono comunque quanti cazzo di colpi ci vogliono quindi lo colpio pure io gerry sei impoterminato di stare vicino al fuoco eh ci sto andando però guarda di che sono in una foresta al buio da solo però cazzo sete hai risolto il problema della sete così gerry si è vero no ho perso le bevande? attaccate col fuoco e ma piove me le spegne come cazzo attacchiamo col fuoco? eh puoi prendere fuoco all'accetta però mica quanti ne hai liquid ma l'accetta è di vero ma non si ma non si avvicinano gerry gli ridono in faccia ma non si avvicinano cazzo di merda ma affanculo vai via lasciami stare cazzo i fiori sassi porca puttana bravo gerry l'hai allontanato cazzo un livello di salute basso gerry sta morendo gerry cazzo non mi lasciare solo qui mai proprio ma no no ho perso tutto l'inventario ma io avevo anche delle medicine prima dove cazzo sono finite? aspetta 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 porca troia vai via lanciagli le teste di gabbiano si vabbè immortale è morto è morto gg mangiamocelo cazzo mangiamocelo cazzo poi i compagni vogliono vendetta si fottano aspetta 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 lo metto nel farò l'ho bruciato l'ho bruciato l'ho bruciato agli indigeni aspetta che è che c'è ciò che è che costruire mi picchia ma se sono uno possiamo usare il suo treno vero saltano cazzo non morire non lo vedo per questo rica l'ho ucciso non è morto a a gerry alzami gerry sono morto anch'io dai difficilissimo e e e giorni sopravvissuti e la sera da volta per me considera che cazzo e giorno però meno male si rifà dobbiamo andare a prendere gli oggetti che abbiamo lì perchè rispondo lì come se fosse dark souls tanto prendiamo no camora sono andati via si no ora dobbiamo costruirci subito un riparo si il cazzo di corso pure non me ne frega niente le foglie cazzo dove si raccolgono così ciao gennaro bullo r gennaro bullo è di poche m'ho detto che c'è? c'è una donna qui dove sei? una donna viva? eh si ma è una di loro oddio mi attacca puttana gerry mi ha ucciso di nuovo ma non c'è qui gerry restami gerry ma è fattibile è buona gerry sono morto cazzo 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 ma quanto è potente quella donna era la più potente di tutti gli stronzi che abbiamo affrontato maria 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 avevano detto che era un survival cazzo era un horror vabbè ce l'ho al culo lei non mi lascia adesso arrivo gerry ho un'arma stavolta cazzo è ancora dietro di me cazzo sei dietro di me dove sei gerry ok cazzo sto correndo per tutta la foresta con lei al culo corri gerry gerry e pensate che è scarsa quella questo è scarsa cazzo cazzo ho capito ma anche noi diventeremo più forti non mi corre più il personaggio cazzo ma è giorno perchè è qui mandala via non sta andando via sto morendo cazzo cazzo ha visto me adesso gerry ha giù un sasso nel culo dov'è attento gerry faffanculo strozza corri gerry andiamo via andiamo via poto che paura non fallo mai più torno umano ora vive il falò c'è il falò dobbiamo tornare al falò dov'è quella strozza lasciala perdere è rimasta indietro vai vai picchia sto morendo sto non c'ho più cazzo ho paura gerry mi manca c'ho la fame ai minimi storici oddio lei c'è il moro moro ok dovevo sciaccarlo perchè ero ricoperto di sangue ok ho ripreso la mia roba quindi mi bevo bevo mangia cibo gabbiani morte equipaggiati questo subito allora finiamo di fare i tronchi con questa roba qui andiamo a prendere gli alberi finchè si può oddio santo ok ho ripreso prendere qui i grossi bisogna prendere si la mia la mia ascia cazzo di giorno è bellissimo può rimanere sempre di giorno cazzo moro deve bastare con questo guardati questi vettiburini che giocano senza di me ma va sono di culo non vado non vado ah 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 quindi mi si stacca di personale ah quella è la stamina ah quella è la stamina mazza come scende la fame mentre attacchi qua ma sta andando giù questo tronco si nel mio no ok ok ce l'ha fatta per un mio morire sotto ok allora uno e due cazzo liquid c'è la donna ma basta ma basta ma che cazzo vuoi ma vaffanculo vai via puttana smettila smettila di tormentarci stronza non ho stamina aspetta uno due cazzo quanti ne serve ancora ma sta salendo su un albero ma dov'è vieni giù stronza vieni giù stronza vieni giù stronza se devi il carrello per portare la legna che ne porti si hai ragione vabbè ma è tardi per la notte c'è un tronco ah aspetta ah ok ho capito adesso come tagliare i tronchi ma come non bisogna colpirli e basta bisogna proprio fare nooo nel solito punto in cui le colpisci eh eh ma io continuo a colpire questo punto e dietro di beve e dietro di beve no 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 è saldata sull'albero tipo ok quanti riservi ancora? non mancano tre no di più di più? ma di più? qua si 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 due alberi proprio di quei grossi prendiamo che se avanzano li facciamo lì per terra voluta troia smettila monna santa dov'è al solito al solito lascio a terra vaffanculo devi morire cazzo brutta puttana bastio tarda figlio santo buttolene il faloo anche lei cazzo ahah che fatica che fa però che soddisfazione cazzo Mamma mia Ho bruciato i soldi Vaffanculo Dio, povero, mi sei ossessionata Quanta cattiveria È così pacifico, tagliare gli alberi Qui c'è un po' di sassismo Perché le donne sono troppo forti Ma io sto per modificare Ma come? Spero, una barretta Spero, una barretta Ok Due Fai tronchi, Jerry, devo cibarmi, assolutamente C'è qualche gabbiano Gli squali, possiamo ancora mangiarli Aspetta, anch'io dovrei cibarli No, ho rotto la roba cruda, cazzo Questa cos'è? Linfa Questa è la salute Non mi preoccupare il cibo, però Dovevo trovare da mangiare Dovevo trovare Ma anche i tartrugli li può cucinare? Sì Ma la vita non è quella lì? Aspetta un attimo Non possiamo attaccare Non possiamo attaccare in acqua Dobbiamo aspettare che vengano arrivi Ah, ok, ok Vedete che vi possono distruggere le vostre fortificazioni Quindi occhio Vabbè, come minimo Sennò che senso aveva No, 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 no I video che hai con i boschiori Mi fanno eccitare Altro che vvf qui Con questo crederebbe finire, ragazzi Spamma, spamma, Maria Ok, con questo deve aver finito, no? Si è spento il valore E due Stefano sta uscendo delle tartarughe Allora Uno e due Finita Finita GG Poi si apre Ma cazzo Oh Di qua? No Oh R Che cazzo sto facendo? Cambio il colore? Ma che cazzo mi frega Apri la porta Ah, basta sbaratterci sopra Ok Sì, ma ci vedi Noi di no Oh, guarda, si può salvare Cazzo, salvo io E così Ha salvato E la schermata nera Ha salvato Sì Puoi anche farlo su il mare Sì, ho visto che c'è la casa sul mare, sì YAMA Hai provato già con Exile a portare in live? Ah, con No Ok Il primo survival che porto YAMA in live, questo Ne ho giocati altri, ma non streamavo all'epoca Ma se può dormire di notte, passa la notte Sì, ma noi l'acqua come cazzo la prendiamo? Salve qualcosa da cazzo Adesso che è più un recipiente Ma si fa andare a vedere quella barca lì, ora che è giorno, se c'è roba Ma sì, andiamo, andiamo Squagli permettendo Si fa andare a vedere sott'acqua che se c'è nulla Ho paura però, Zerri Ho paura Eh, ne ho sentito parlare bene di Conan, però, boh Questa c'è anche la trama, capito? Se dormi di notte passi un guai oltre che... In che senso? Che succede se c'è il giobbolo Eh, non bisogna dormire la notte, ragazzi Punto Che t'inculano, nooo Nooo, cazzo Che porcelloni Cazzo C'è una rivista, Zerri Ma dove si è boccato? Dai, non c'è nulla, ma anche qui sotto c'è roba Vabbè, questo è alco Ci serve un recipiente, ci fosse... Latte Soldi Lore? Che cazzo è questa foto? Cos'è questo cicero? Che cazzo ho preso? Ho preso bombola d'aria Che succede? Eh, c'è un robo lì, volevo romperlo, ma non si romperlo Ma è una testa questa? Sì Scomparso Vabbè, sì, su... Barrette, Zerri Barrette, bibita Sì, sì, ho preso anche da... Cos'è sta roba? È meglio stare la raga dalla spiaggia Anche qui puoi dormire, guarda E puoi salvare Ma io li salvo un'altra volta, vabbè Eh, dovevamo andare qua prima, c'èmmo sott'i coglioni Eh, ma insomma c'erano gli squali Ma al fine non è che c'era questo granchè, perché c'era molto più roba Oddio, in realtà, non ho trovato... Ho trovato molta roba qui, ho trovato tanto cibo, tanta acqua Ah, c'è, cosa ne cibo, fammi mangiare qualche cosa Mica, ma non c'ho da mangiare, c'ho solo da bere Non c'ho merendine, c'ho il cibo, ma lo devo cucinare Ma ti ho detto, c'erano le merendine qui, perché non le hai prese? Le ho prese io adesso, non so come parte Vabbè, puoi troppare per terra? No, scusi, si premì Eh E la trascini fuori, te lo fa trascinare fuori dall'erba, dal telo? No C'è solo tasto sinistro mangia Io non l'ho mai vista la fine, perché moriamo subito, cazzo Aspetta, torniamo in spiaggia e accendiamo il falò Perché avete costruito una capanna e si potete dormire nella barca di lusso? Perché non lo sapevamo No, più cazzo, ci avete consigliato voi di fare la casetta, bastardi Sì Per quello ci siamo da caniti a farlo Ai fai, mi trovo qualcosa, ho capito Moro, te l'ho detto 82 volte, cazzo Sto facendo The Forest con Jerry, perché lui è in blind run, punto Ma perché Jerry ora è nero, come? Perché sono nero ora? Mamma mia Perché vuole morire per primo È il bello della blind, se affidano noi possiamo divertirci un sacco, guarda Vaffanculo Allora, come si riavviva? Aspetta No Eh Eh, ma se è bagnato non si accenderà mai Scendi, bastardo Lo immaginavo, cazzo Scendi, bastardo, scendi Sì Mi sa che serve l'erba, beh Cazzo, serve l'erba Dove la trovo l'erba? Come l'erba? Le foglie? Sì, le foglie L'erba è un po' ovunque, sai, te la farebbe raccogliere anche qui Sì Le foglie sono tutte piantine che trovi qua in mezzo al busto Sì qua, vediamo Ah, ok È easy Cazzo, non dare via, non voglio questo, cazzo Allora, non È finito Ma cazzo è finito Cosa? Le foglie scompaiono, cazzo No, ma le prendi in automatico Dici? Vediamo Ah, sì sì, ok, ne ho Eh, lo so, sto cercando giù di dire a vivare il falò Se no non c'è divertimento, guarda quell'altro, cazzo Come si mette? Non era C? Eh, non mi fai accendere tanto Ma è inutilizzabile? Cosa? Ah, ok, ok, C A posto, adesso si mette la carne Guarda, guarda, minchia che Eh, dai, ok No! Mi sa che non dovevo mangiarla quella Volevo posare il cibo, ma Ho fatto cazzata L'ho mangiata la carne cruda Che cazzo era? Sei pazzo, Jerry? No, non volevo bruciare Eh, va bene Guarda, non mi fa bene Eh, va bene, cazzo Sto bruciando Vai, a posto Mi torna in mente una clip Dove Moro ha fatto cadere un albero sopra la casa che aveva appena costruito Oh mio Dio Esploso tutto Prima mi dite di coprire più G e poi non ci giocate più Non è vero, ci avevo giocato l'altro giorno Ma l'ha comprato più che altro Ma chi, Gio? Moro, si sta lamentando da te, guarda Ma è scemo, Moro Ma come si fa a mettere il cibo? Ma mi sta dando noia a questa cazzo di capannina qui Ma l'hai comprato, PUBG almeno, Moro Comunque ci abbiamo giocato l'altro ieri Gio vuole portarlo alla morte, bastardo Guarda, guarda, non sta mica Mi salvo ancora, Gerry Ma lo devo equipaggiare, sei scemo? Ok Apri l'inventario Lo so, l'ho messo, ora l'ho messo, ora la mangio eh Perché ho veramente bassa il cibo Beh, ti metto anch'io il cibo Io però non so quando è cotto Quando ti dice di premere, pezzo Che è buggato, a volte viene, a volte no, però C'è bisogna una certa distanza, cazzo Perché l'abbiamo fatto qui, il palo? Ecco, vedi Ora c'è Fare le morto, ovvio Mangia, Gerry, mangia Non lo stavi mangiando, Gerry, te lo sei spazzato sulle labbra No, ok, ok, mangia Vichia, lo dai ritardo il cibo quando lo mangio Ok, vai, ora è pieno, ora è tutto pieno Salute Niente, c'è da fare, fa vedere B Uso l'umanità Allora Facciamo quelle pile per... Che dicevano loro per allontanare quegli stronzi C'è anche le trappole Trappola per conigli, non mi interessa Trappola esplosiva, non penso che si possa fare Trappola mucchio di foglie, che cosa cazzo fa con il trappolo? Ti ho messo un peluche dentro la casa, Gerry Come ho messo un peluche? Ma se noi ci costriamo una zattera E noi ci buttiamo, cioè stiamo sopra e ci avviciniamo Verso la barca, quella grossa Loro non possono venire No? Penso vengano a nuoto fino a lì, però Ma che bastardi, però che cazzo Sì, ma nella barca si possono allontanare facile L'entrata della barca è solo una Allora costriamo una zattera intanto Ma perché vuoi costruire la zattera? C'è la barca, Gerry No, per arrivare alla barca, come ci va? A nuoto? Ci moriamo con gelati Sì, vabbè, ma... Vabbè, perché c'è il freddo di notte, vero Eh, è la cosa più... Stai già facendo notte, come per se fosse No, no, Gerry, no Allora, ho visto il cibo Sette... Sette tronchi servono No, come tu? No, come tu? Altrimenti non sarebbe più... Vabbè, però intanto noi andiamo sulla barca con l'altra Allora, due sono qua Intanto li prendo Uno... Ah, tre addirittura Ok, così te è a posto Ok Se ti fai la moto puoi fare la trappola, l'esplosiva, mi sa No, penso che per la moto c'è la trappola con la moto, per quell'altra c'è la trappola esplosiva Però se verrà l'esplosivo che non stiamo trovando nemmeno da mangiare, figurati l'esplosivo Io c'ho la... Ah, è vero, è vero, me l'aveva detto... me l'aveva detto anche Raffaele, cazzo Che mi devo fare una... no, ho sbagliato Un carrellino portalegna, me l'ho detto che c'è Un lol Che cazzo è questo rumore? Il troco No 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 No, il lardino, raccoglisore d'acqua Raccoglisore d'acqua Raccoglisore d'acqua, c'è Fallo, fallo, Jerry, fallo In effetti dovrei guardare anche... Serve un guscio di tartaruga, mi serve? Lei le ha uccise tutte e una è rimasta Eh, ce n'è uno... no, dovrei averlo ancora, un guscio, mi pare di averlo E quattro stecchettini di legno Dovrei poterlo creare, dove lo creo, Jerry? Ehm, metterlo vicino alla capanna Oh, vado a prendere, mi servono gli stecchettini di legno, aspetta Fatto, Jerry, l'abbiamo Hai già costruito? Sì Ah, ok, allora non mi servono più questi Allora, per fare il carrello Porta bastoncini Slitta per tronchi 21 bastoncini di legno Ok, fattibile, fattibile Panchina di legno Letto 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 No, sì No, ma tanto perché possiamo salvare il letto No, no, no Non serve Ma risparmiamo nel letto, però, ce l'hanno detto Se moriamo, non risparmiamo nella casa Ah, come in Rust, quindi Ci servono quattro pelli Do cazzo, le troviamo quattro pelli Eh, c'erano animali più grossi, pensa Pelle di coniglio Pelle di cervo Ok Magazzino Portarocce Allora 21 Quanti ne ho di 21 Questi qui ne ho 8 Eh, no, ancora un po' ce l'ho da prendere Vuoi portatronchi Prova a crearlo Sì, lo sto facendo Quanti ne hai te di legnettini? Ah, ma l'hai già L'hai già L'hai già posizionato? No, non l'ho posizionato No, no, no Allora, ok, lo posiziono io qua Butta, 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 butta Eh, eh Cazzo Cazzo Veramente Ma il mio zaino l'ho recuperato almeno Sì Se ce l'accetta, sì, in automatico È vicino all'accetta lo zaino Ah, giusto Perché ne avevo tantissimi i bastoncini Mi sembrano troppo qua Vai, ora coltiva un po' Ma io penso che si possa anche coltivare Può essere Sì C'era il coso per coltivare Ma cibo, gabbia per conigli Giardino Siccatore Ma come si muove ora? Di qua? Ma Ah, ma Nooo Ma non si muove? Io penso si muoveva Cioè, semplicemente metti qui dentro i tronchi È un deposito Ecco Se mai dovremmo creare la capanna Almeno è qui posizionata Ho capito Allora, fa vedere Portarò, eh, vedi Portatronchi No, no Slitta per tronchi ho fatto E poi c'è, no, tu cosa hai fatto? Ah, ma non si muove sta merda Resta qui fermo Ma cosa hai messo te? Slitta per tronchi o portatronchi? Portatronchi avevo fatto No, serviva la slitta per tronchi Cazzo Cazzo No, dobbiamo rifarlo un altro Cazzo Aspetta, quindi possiamo mettere i tronchi qua almeno, dai Ok Ok Ma che se che posso mangiare? No, lo sfruttiamo, l'ho visto che l'ho creato Aspetta, c'è un tronco qui, a questo punto l'ho porto dietro Ma cazzo era un? Cioè, mi perdo anche qui, non so, gli Dark Souls, cazzo I tronchi li ho messi tutti in quel cazzetto Quanti li può contenere, quell'affare, però Non lo so Quelli là che ho messo ci sono stati tutti Tentate quasi di comprare, ho aggiunto tantissime cose Ma Gio, considera che io quando l'avevo visto una live Non mi ricordo di chi, era buggatissimo, era ingiocabile questo gioco Forse ero io Tomy, mi aveva detto che lo disinstallava perché non riusciva nemmeno a giocare Ok, è piena Ce ne stanno 7 Aspetta, faccio quello lì, carrellino slittino Aspetta, questo qua Mettiamolo qua Messo Vado a prendere i bastoni in Sirian Quanti ne hai presi? Eh, però ne ho 3, ora Ce ne voglio 21, cazzo Adesso è tanta roba, anche l'italiano, davvero ben fatto E' così, per esempio ho detto, se non c'è i giochi in italiano non li compra Quattro, 5 Quattro, 5 Quelli non sono in Sirian 6 Salti, sì, ok Chi ha la fame scende molto velocemente però Sta facendo buio, Giovely No, 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 non volevo dirlo io Ma quanti cazzo di trocchi ci sono qui però Non possiamo farli rotolare giù dalla collina Nooo Che cazzo Vado a mettere i bastoncini che intanto ho preso Ma che sono pieno? Cazzo, l'inventario pieno, come si è appicciato nell'inventario pieno? Ne mancano 11 Cazzo, ne ho 10 come l'inventario pieno, quando tutto arriviamo a che cosa? Aspetta, c'è un altro qui, oh no Che sta merda Alcolici, alcolici, cazzo, beviti un po' d'acqua No, aspetta Ah, come, come butto via la roba? No, ci deve essere una maniera per buttare via la roba Il primo c No E non lo trovo il modo per buttare via la roba L'ho chiesto otto volte in chat Non lo so nessuno Non è possibile che non può buttare via la roba, dai No No Sento dei rumori, Jerry Jerry, Jerry, sono qui Jerry, Jerry, arrivano Jerry Ma è giorno, è chiaramente giorno No, giorno cazzo, Jerry, non c'è più il sole No, no, no Aspetta, si fa Paffanculo, aiuta, Jerry, mi picchia Sono, sono, sono Jerry, mi picchia È da solo Vai via No, no, no Sono in due? Ah no, sei tu Cazzo, il palo si è spento No Mi sono uccidendo Ma non c'è più il palo Cazzo, muoio No Non morire Vabbè, ho capito E vabbè Non ti posso alzare No Sì, però Sì, se no non ti toccano Ah, Jerry, non morire Ah, ok Aia Cazzo Jerry, non c'è il palo, è quello che li fa avvicinare Dove cazzo hai fatto? Non c'è più, è sparito Eh sì, che lo fa? Andiamo nella barca, nella barca, lì qui Vabbè, buttati nella barca, prega cazzo Vabbè, andiamo Fa un culo, che si fottano, cazzo Oh, facevo come PUBG, ho premuto altro che guardarmi dietro ma non lo fa Ho paura, Jerry Mica come negua, vabbè L'eclissi È andato via così Jerry ha i bastoncini che ti avanzano Un pochino sì, ne ho come Ok, possiamo creare un palo nella barca, allora se si può Già ti ho detto che devi dormire e stai collassando a te A me? Mmm Cazzo Ma come è ricoperto di sangue e sciacquano per evitare infettarsi Sono stato in acqua fino ad adesso, coglioni Sì, i pirametti li ho, però... Mi sta calando... Ma in realtà no, la vita, come mai ero così poca, cazzo? È perché mi ha colpito quello strontz Allora, ti dici che qui ti fa creare? Proviamo... dov'è? Però serve anche le foglie, le foglie ne ho abbastanza Penso di sì No, non lo fa posizionare Nooo Moriamo di freddo, moriamo di freddo Se rimaniamo qua, Jerry Dici? Ma che dentro? Aspè, proviamo a metterlo lì dove delle rocce Ma vengono loro... Cos'è sta roba? Loro vengono di sicuro Ah, ha preso la corda? Cazzo, potrei raccogliere la corda? Ma dove cazzo l'ha messo? Ma vaffanculo! Dov'è? È dentro la roccia Vabbè Ma veramente non puoi... scusa Vabbè, non farlo nella barca Se è controllato non brucia la barca, però... Non lo fa fare comunque Niente, eh? Volevo glitcharlo in qualche maniera, ma... Ah, ma hai detto che devo dormire? Fammi andare sul metro Questa rotata finirà valissimo, nooo Io dormo, Jerry Però preferisco morire di freddo Che farmi ammazzare da quegli strozzi, cazzo Non dorme, Jerry, mi ha mentito Come non dorme? Non dorme Perché? Non lo so Guarda, non te lo fa mettere da punte parte? Da punte parte? Stranzo No, no, è proprio disattivato Sì, ma tra poco farà freddo, Jerry Sì Ma questo coso, però... Aspetta Ah, ma c'è più pagine! Scale Parete... Parete di rocce Minchia, quanta roba c'è da craftare Tu non puoi... Non hai idea Casa sull'albero, mia! Puoi fare la casa sull'albero? GG Gru Teleferica Senza alve Vabbè Che cazzo era quel rumore? Stanno arrivando Sono loro Ma perché mi ha levato l'accetta? Cazzo sei scemo Venti Gio lo vuole comprare Minchia, Chris Siamo venendo a perdina Siamo venendo a volare la merda Altro che perdina E loro si cazzano perché non... Dicono Gridolo dice che devi dormire anche tu Cazzo Ma non si fa dormire però, ragazzi No, ho dormito Zero, no devi anche te Uno due due mi dice Vieni qua e aprimi il zero Ah, devo dormire insieme Ok Vai Cinque star hotel Campari Quante cibi Giorno Avevo rotto il gioco GG Abbiamo vinto Gigi Però stiamo morendo sia di sete che di fame Vabbè vabbè quello è il male di poco Bevo E i mangiare non ne ho però Torniamo il falò Io il contrario A meno che la... Oh l'alcol mi... Ti alza la sete Sì ti alza la sete Puoi bere con l'alcol Gigi TASCHETTE VIVA L'ALCOL VIVA L'ALCOL TASCHETTE Cazzo Dovete dormire insieme Kfri Abbiamo fatto È molto bellissimo Vabbè se in male Di procurarci il cibo E da bere Basta che prima si va a dormire Ce l'abbiamo nell'inventario alla fine Allora per il raccogli foglie Le foglie le abbiamo Eh perché le devo mangiare Quindi ora c'è da fare il falò Raccogli bastoncini Bastoncini ne ho Ormai finisco di fare quella lì Porta... Porta legno Guarda Sta cazzo di trattura Aspetta quello lì da bere l'avevi fatto Sì quindi da bere si può prendere anche quella lì Eh ma non so se ha piovuto E infatti no Cazzo Allora finisco di fare questa Però sì dovremmo creare almeno due di quelli Tanto è facile Saranno tre bastoni e una tartaruga GG Guarda... No me ne manca uno per farlo Eh sì l'avevi detto che ne manca uno Provavo da cercarne uno E poi sono arrivati qui bastardi Ecco cos'è come è successo il tutto Già trovati Gerry vado a metterlo io Eh vado a farne un po' ancora perché Mi serve anche per fare il falò Ah giusto non c'abbiamo più il falò Ah yes cano Vicky già lo stai vedendo? Ok Il carellino Gerry Si muove puoi vedere Uno Ah cos'è? C'è scritto eh tieni premuto ma non funziona Ecco 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 Addio Guarda doveva fare la spesa cazzo Andiamo a metterlo nel bosco Aspetta metti un falò perché Tocco Tocco Carne cazzo Adesso mi sei posato accanto cazzo Mi fanno lo uccidi Ok Allora Recupero tutti i tronchi che abbiamo lasciato indietro che sono tanti La Ok ok Ora inventario Mica vuoi bacchinoso però Che cazzo ho fatto? Ho fame cazzo Ok Situazione estreme azione estreme Uno di voi dovrà segregarsi per il c No No Maggiamo la donna che c'è venuta a prendere prima cazzo Mamma mia Ma l'ho bruciata sul falò E' sparita E' carbonizzata Cazzo è? Cazzo Ok comincio a far legno Ma il cibo me lo stai dando? Ok 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 Vi sa che dovrei fare una staccionata Ma in realtà Tanto fanno in giro ovunque Dovrebbe essere una zona più ampia di questa Questo è proprio un rifugio di fortuna No No noi dobbiamo montare A prendere legni e cominciamo Ah no ora comincio a fare questo che c'è legna Ok Ci vorrà una vita eh Però Però più resistenti di quella eh Cioè prima che ci buttano giù questa Ciaoone Hai cominciato a montare la capanna? Si Ok Cazzo Andiamo a fare a zatter Ma quella lì ci vuole nulla ci vuole E' più è fare quella lì Allora Allora Per fare la zattera cosa ci serve? Cazzo come lo fa fare Aspetta Non ho stamina Jerry Devi darmi il cambio Aspetta aspetta cosa ci vuole per fare la zattera Allora L'ho trovata Dove cazzo è? Che rompi ti tronco di merda Ok Zattera Allora serve sette tronchi Quattro legnettini E quattro corde Ok Si può fare Picchiali tutti Jerry Aspetta aspetta Allora legnettini quanti ne ho? Arrivo col primo carico tra poco Due Mi serve altri due Ok Vediamo Quattro Quattro corde le abbiamo Vediamo Tre Noo c'è una corda? Ah io ne ho tre Corde Eh io trovo sopra la nave Cazzo Per una corda non si può fare Stai scherzando? E dove cazzo la nave la troviamo una corda? Merda Eh era sopra la nave la trova Eh al massimo all'aereo si potrebbe provare E ti ricordi dove stavano all'aereo? Eh per di là Ma da dare un'occhiata aspetta Stato gli indigeni non ci dovrebbero essere per ora Ok porta tronche è quasi pieno Ma se dai fuoco al liquido il liquido si spegne Oh mio dio Oh mio dio Devo andare nell'acqua Oh mio dio Mi raccomando non fate come il moro che distrugge la casa col tronche Sarebbe solo da vedere comunque Sarebbe solo da vedere comunque Sarebbe solo una scena bella Ma c'hai la clip eh? Allora lo recupero dopo cazzo Ma quindi distrugge l'edificio e la costruzione se gli cade sopra? Sì sì Ok penso che il carrello sia pieno Vado a montare tutto Gerry Eeeh Facciamo che torni indietro Facciamo che la corda rimane dov'è Ma che cazzo Facciamo che stavo scherzando Non mi interessa più la corda Gerry Che? C'è un Non lo so Penso che voglia i miei tronchi quest'uomo Beh ne ho trovato anche io tre Sto tornando via per quello Ah ok Voglio i miei tronchi Aspetta che gli parlo io cazzo Ho paura Gerry Aspetta posso dargli fuoco a questa? Ha qualcosa in mano Gerry Combina Non credo sia la tasta di un gabbiano Combina Equipaggia Equipaggia anche questo Dagli fuoco Minchiavoli gli faccio un danno della madonna Guarda Dov'è? Dov'è questo? Gli faccio parlare io Dov'è? Guarda guarda Sì sì vieni 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 C'è qualcosa? C'è qualcosa? Dimmi Cazzo di merda Non fai più il duro eh Oddio Lo fa Fa il duro Picchiano Gerry Picchiano Gerry Non scopo lo scopino cazzo No Non stama Dammi il cambio Porca puttana ma lo muore? E' muore figlio di puttana ok So di merda Oh Cosa ho preso qua? Ok Dammi qua Oh Ho preso la sua cosa ho preso Gerry che cazzo è quello? Ho preso quello che aveva lui ho preso No Gerry girati guarda in cielo Cosa c'è in cielo? Non lo vedi? No C'è un raccoglitore d'acqua nel cielo Ma come c'è un raccoglitore d'acqua? Il nostro raccoglitore Ma è lì il nostro Ma è risparmato qui adesso Ma perché mi vede cose? Ho paura Gerry Ho paura Allora facciamo il palazzo Stavolta non attaccato alla capannina Ma spai ma non possiamo smontare la capannina scusa? Quelle capanne? Questa piccolina? Eh Prendere i tronchi e rimetterli su quella grande no? Vabbè rimettiti questo cazzo Allora prima mi aveva chiesto come dare oggetti La risposta è che non si può dare oggetti L'unico modo che avete per dare oggetti è utilizzare una specie di scodella del cibo Che all'interno può contenere fino a 6 oggetti E il vostro amico può prenderla con gli oggetti all'interno Ah qui c'è un contenitore Tu puoi cercare tranquillo Mario Ah ma l'hai già fatto il palazzo Come si l'ha già fatto? Basta alimentarlo ogni tanto Allora se uno è fattibile se solo uno Ok spado che si cucina che devo mangiare Però il cibo ma che cazzo ci devo fare con questi denti? Non lo so anche io ho trovato i denti della donna prima No posso farlo? No Cazzo ci devo fare? No ma le devo buttare via queste robe perché mi danno fastidio C'ho le bombole d'aria io Ok ho mangiato Si dovevo usarne una sola comunque ho sbagliato Ho sparcato carne Aspetta che voglio ancora carne cazzo No 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 Cazzo Prendilo Piglio di puzzola Ok 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 Buttalo nel poco cazzo E' stato eccessivo Ma perché sta bruciata che il cadavere cazzo E' il nostro Ormai il nostro simbolo Ok non si avvicinano mai più Mi pare li puoi mettere sull'accetto o su un'altra arma Non vedrei di cazzata però Ma dovrebbe esserci tutto il Vado a prendere altri trucchi Ma cosa dal telefono funge il multi street Eh ci sta di nuovo Appena riusciamo a farci la casa possiamo cominciare ad andare in esplorazione Cazzo Siamo sempre qui Sì in modo che se si muore si ritorna qui Esatto esatto L'importante è quello Vai cibo dai Neanche Monster Hunter ce l'ha così tanto Ok Allora io direi di costeggiare lì il qua poi Il lungomare Allora andiamo a prendere altri tronchi Volla Cazzo Ma sta cedino se lo leva poi si Sbagliato Stai fai a pezzi il cadavere si poteva Ormai cazzo Il multi street sarebbe fattibile ma nessuno ci prova No dico dal telefono Ooooooo merda Che c'è? Oh nooo Ok Ha spiorato il portatronchi e stava per distruggerlo Ho visto brutta Ah dice il sito desktop dal telefono ok Ok Meno male cade sempre dalla parte opposta Sarebbe un problema Era caduto dalla parte sbagliata una volta E ora lo facciamo così Lo faccio cadere da segnato Dov'è il carrellino che non lo vedo? Però per indicartelo con la bandierina rosa Eccolo qua Sì ma alla fine cazzo dove cazzo vuole lui Oddio c'è lui Porca puttana Perfetto adesso ufficialmente Non so più una ceppa Che ho giocato due ore ai massimi L'unica cosa che posso consigliarvi E che cos'è il suo rumore Il carrellino è pieno cazzo I liquid ci sono Cazzo Porta il carrellino via Portalo tu portalo tu Io c'ho il tronco in mano Cazzo se vado via Mamma mia E che una volta avete creato la casa Di fare una palizzata intorno Così non ve la distruggo Ok come il rust Quello si Cazzo come è difficile guidare il carrellino però Dai cos'è che è un bloc Fregati Jerry Quello ti punta Cazzo Dove cazzo sto andando? È da solo? No No sono in tre cazzo Eh sono in tanti l'ho visto Sono in tre No? Ah il gabbiano Ma no ma cosa cazzo Ottacchi per tarla così Ok Ok Ho una testa di gabbiano Bastardi E non ho paura di usarla Esatto Ah se ma se li picchio con quello che ho preso da loro Vediamo Questo qui ho preso da uno di vostri amici L'ho preso Guarda come si allontana Guarda come si allontana Ah vi allontanate Vi allontanate Ma si allontanano veramente liquido Guarda Ma perché c'è quello di loro in mano? Che sono male Sono male No no è che di mattina questi qui Attaccano soltanto se li Mamma mia vi tirano il cavo Se ti fai prendere furtivo tipo Puttana Vai via Tieni l'allango Tieni l'allango Tieni l'allango Ma ride? Cazzo ride? È inquietante Gerry È inquietante Ahia mi sto per uccidere Gerry Picchiala Che cazzo Che cazzo sta fai Dai al culo Gerry Ok Ok Sventra questa troia Sventrala Ma dice che possiamo anche Maia mi picchi Che c'è? Mi picchi tu Mi hai fatto male Ma c'è fuo capico? Penso di sì Guarda dove l'ha stato capitato cazzo Ok ho messo via la testa Prendiamo altri tronchi Sono finito di romper i coglioni questi qui Eh quello che chiedevo io che inseriscono si può riprodurre Guarda li vedo dalla giù Guarda quanti cazzo sono Ma il culo c'è Dov'è che dov'è il falo? Jerry no? Che c'è? Dov'è il falo? Ah si è spento ok Pensò fosse sparito di nuovo Se smembrati cadaveri poi potete creare i pali con i pezzi sopra per allontanare Eh me l'aveva detto anche Joe mi pare Quanti disini con la lavora? Siamo a metà cazzo Siamo a metà Madonna Ok C'è ne sono un casino attorno a noi C'è li vedo mentre qui sto spaccu... Lo smembrò No no non piovere dai Si si che deve piovere dovevo prendere da bere Jerry L'acqua Capito spegge tutto Il carrello dove l'hai messo? Non so te io dove sei te Si ma è vuoto riportalo su Ah non lo so Lo so perchè siamo un po' loro attorno eh Non lo so eh Non lo so eh Tu fai gli alberi Vai Jerry metti Guarda quel che corre Guarda è bellissimo cazzo Che tasto? Ah c'è Ok Ma gli alberi respawnano proprio perchè noi stiamo disboscando qua cazzo Vabbè Tanto il bosco è vastissimo E lo so vorrei andare a giro a cercare rifornimenti Però No rifornimenti ragazzi Appena Facciamo finiamo la capanna e facciamo il letto Poi andiamo Ma magari anche un'arma decente Perchè non solo una citta Eh si ma per l'arma dobbiamo muoverci Penso dobbiamo trovare roba Dobbiamo trovare roba Dobbiamo trovare roba di metallo Roba così Ma ci stanno le armi da fuoco? Forse no Non può essere dai No ho sbagliato Comunque è già pieno di tronchi qua attorno Perché abbiamo rotto tanti di quegli alberi Prova a cercare prima di cominciare a tagliarne altri Ah guarda qua ce ne è uno Tipo qua ce ne sono cinque Qui c'è un intero albero Qui c'è un intero albero tagliato e lasciato lì Ci sono i villaggi di questi che di solito hanno le valigie Eh nella valigie c'è parecchia roba cazzo Si ho capito ma nei villaggi ci sono anche loro Ciao tasot Quanti li può contenere questo qui? Sembra che si stia pienando Una decina Esatto Eh mi sa che è pieno Vado a montarli Tuttaglia intanto No non ci serve una corda che fa la zatte La cazzo possibile che non Mettiamo il qua che se no non li troviamo più Ma era bella davvero i miei amati numero zero Cos'è il strumone? Ok Riporto il carro Ma è da me o è nel gioco? Forse è da me Se no ero neri troppo cazzo Eeeh Ressatela Do cazzo Startorias Ti immagini di Artorias che compare cazzo Gli staccendini in mano cazzo Ok 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 Lì sei andato una vo... dove lì? Ah nell'abisso vabbè La storia del gioco mi pare di trovare vostro figlio poi non so Eh sì è... è BioShock l'inizio che cade dell'aereo Ho fatto una cagata Che è successo? Eh li ho tolti invece di metterli Noo ok non è che si rompe stascia prima o poi sì gg poi scusa esatto maria io penso che la cedilo sia infinito perché non riesco a toglierlo dall'inventario quindi forse altri due poi si fermo questo no no è già pieno ma lo qui lo porto in questo gioco bisogna sottoterra delle caverne si ciao si è quello che ti ho detto la cavernale è critico ci sto già andando guarda ok aspettami lì in vero e per la casa per abisicurato delle caverne non ci vado non ci vado quanti ne manca qui dio bono ti dico 63 ma in realtà non tantissimi 67 12 no 22 22 o no andate ora no ma credo finito sei la casa cresce si 22 dai dai facciamo presto 20 su pochi su altri due carretti voi basta se non puoi mettere sto facendo penombra guarda tutti tutti i termini che la stamina è perché mi cerca anche il cibo mi sta finendo cazzo ma tanto dovevo i gabbiani facciamo estinguere i gabbiani ok meglio se la costruiscono salvano passanotte ma esatto sì per un punto di salvataggio più che altro perché probabilmente quando andremo a scoperto moriremo esatto moriremo sicuro quello è alisso bellone ma cazzo ciao alisso allora cosa devi fare in stagione qual è lo scopo per adesso la trama è sovrappi 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 no sì quello è l'obiettivo però noi siamo partiti in aereo che poi ha avuto un incidente quindi noi siamo un autrago in un'isola e avevamo un filo il nostro figlio con noi che però è stato rapito eh io e di liquid sì avevamo un figlio in qualche modo esatto no devo mangiare perché la stamina mi finisce subito cazzo level probabilmente gli indigeni hanno rapito il nostro figlio adesso noi dobbiamo trovarlo ah vedi la stamina non si ricarica quando sono così tanto affamato o assetato ho capito cazzo vai a prendere da bere avrà si sarà riempita ormai così si riempi sì sì ora piglio questi altri due tronchi poi vedo di costruirne anche un altro provo a mazzano tra tartarughe e porca troia mi sbaglio sempre li tiro via invece di metterli quanti ne mancano me lo dice 71 su 89 allora dov'era quello dell'acqua qua ma è bevibile sì è proprio vana questa non partorisce gli alberi cadono nel senso sbagliato quello sì ma non si sta ricaricando l'acqua o sbaglio ma dai ci vuole un pochino per ricaricarsi non penso che puoi berla di continuo guarda no dico l'acqua della mia della mia è uguale è buggata anche a me prima ho mangiato prima ho mangiato due bistec e mi è rimasto ma che è piena flash guarda è a meno di metà la barra dell'acqua ok sta facendo buio gerry io porto via il legno che ho preso stiamo dicendo di chiedere il padre anzi no stai a partorire oh mio dio io non so di cosa sto parlando io non so di cosa sto parlando ma eeeh no il cibo mi serve prendo l'ultimo legname veloce veloce poi arrivo ho bisogno del cibo santissimo dov'eri il falò cazzo ma dov'è stato messo il falò non c'è più ma scompari il falò ne costrui un altro ne costrui un altro meno male l'ho sempre la roba cazzo e non ho la carne te l'hai la carne? eeeh si dovrebbe avere un gabbiano che ho ucciso prima a caso la goccia è l'acqua e ora metto questi a mano e se la goccia è l'acqua cos'è quella a destra oltre la stamina? no ma è quella la seta ragazzi ok il centrale vabbè il centrale è il fame ok a sinistra quindi la goccia è l'acqua e a destra cos'è la barra oltre la stamina? quella è la vita mi sa no la vita è quella a sinistra rossa ah quindi sto per morire oh dio è buonissimo arrivo Zerri arrivo se c'è della carne sarebbe anche meglio cazzo questo lo sto guarda ah soddisfazione hai trovato la carne? si è solo una l'ho presa per ora penso si ah è la stanchezza quella viola è il sonno mi sa quella a destra della stamina è il si penso sia il sonno ecco perché la stamina non si ricarica oltre quel punto per levare la porra immaginati di essere due fratelli in campeggio che hanno visto una puttana nei boschi cosa succede? dai ma porcatra proprio adesso doveva fa buio mancavano quattro tronchi dai cucina quattro tronchi c'è un albero qui in spiazza? no ok e perché mi hai ricaricato anche quella che dovrebbe essere la il sonno? non so che cazzo è ma cosa? posso cucinare la testa? hai scherzato? si anche le braccia e le gambe cazzo si bagna mangiamo cazzo miiichia se si bagna io voglio la testa cazzo no io voglio il braccio ma poi era una donna perché hai la testa di un uomo? che cazzo eh non ha il gusto della donna dai lì sono le volte che non mi fa morire cazzo ok vediamo ok ok ah buona cazzo eh c'è acqua per me ok io ho tutto pieno ho tutto pieno ora perfetto pure io gg gherry cannibale no non è il sonno perché mo ho mangiato e bevuto ed è tutto pieno quella barra di non capisco qual è il sonno eh non è il sonno non capisco qual è il sonno c'entra con la fama piano figlio di puttana vieni qui che si sta riempendo eh l'ho preso cerni e l'energia è ricaricabile che cazzo è dura c'è porto anche la testina E si brucia tutto Il sonno è per la vita Eh no, non riesco a metterlo Ah! Ah! Qualcuno! Non metto! Che sta succedendo? Che sta fico a spingere? Ma stai ancora bruciando? Ok, non ho smesso Sto quasi morto, Cerny Sto quasi morto Aspetta, non c'hai le... Le severi tipo della roba che ti ridà la vita nell'inventario Io li ho finiti ora Sono gli alcolici qui, cazzo I denti Bastoncini Cazzo ci faccio come un osso? No, erano le medicine che poi mi sono scomparse Se dormi mi pare che ti ridà la vita abbassando altre stat Prendi la radio e la cassetta Ma sì, adesso dormiamo, infatti Che devo fare? Mi rode tantissimo, non hai idea quanto che Ci mancavano quattro tronchi per completare a casa, cazzo E' fatto buio proprio adesso Io vado, cazzo, vado a completare Non mi interessa Cos'è? Manca un albero Liquid, ho messo la musica Bravo, Cerny Così li spaventi Ma non è che li attiro tutti così, ragazzi? Oddio, forse sì Più che altro non ci hanno ancora trovato stranamente Nonostante sanno che siamo qui Colpa di crasher, cazzo Ma senti che cazzone Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo c'è? Mi era tutto buio Non sentivo niente sbucare improvviso Cazzo, ma cioè Ha perso un dente, ha perso un dente ha perso Stronza Qui cazzo Da posere come trappare vicino agli alberi Non so con cosa Ma cosa sto guardando? Ok, davvero ci ha fatto un po' di caiccio, quindi giusto. Ce n'è un'altra, Gerry! È la sua sorella, la sua sorella. Ha le tette, è questa. Questa ha le tette, guarda. Guarda, è liquido questo pc. No, 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 Gerry! Questa cosa è grosso! È quel coso lì che è pieno di vita. No, 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 alimenta, alimenta, alimenta. Ah, è fuoco, 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 non puoi, non puoi, c'è fuoco. Vedi? Fuoco, fuoco, no. È un fuoco, pezzo di merda! Guarda che, c'ho questo, eh. Oddio! Ahia! Non ho vita, Gerry! No, 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 no! Attento, Gerry, scappa! Scappa, Gerry! Cazzo, l'ho ucciso questo strozzo, ahia! Dentro la casetta, Gerry, dentro la casetta! Sono uno stamina! Entra nella casetta, Gerry! Non lo stamina, cazzo! Entra nella casetta! Entra, 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 entra! Chiudi, chiudi! Chiudi, cazzo! Ah! Ah! Che c'è? Senta rumori, sono qui! No, 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 non posso entrare. Mi fa vedere se le va più vita questa o... C'è sicuro che non possono entrare? Ah, vedi, danno ne fa di più questa che ho io. È meno veloce, ma fa più danno. Eh no, secondo me con questa. L'acceglielo squalo. Ehi, cazzo! E' qui! Io lo puoi toccare. No, lo butti giù alla capanna, sta buono. Cerci a viso, cazzo voi? Eh? Cazzo? Ahia, vaffanculo! Va bene, va bene! Ressami, Gerry! Ressami! Mi ho morto! Sei morto anche tu? Ma con un colpo! Dai, vabbè, ma le case a che servono, ragazzi? Siete tutti bugiardi! No, bisogna fare quella grossa, c'è poco da fare, vabbè, quella vi sbrana. Dovresti pure vissuti uno, però! Pure io! No, mo' bisogna correre, Gerry! Oh, stiamo qui, aspettiamo una lotte qui! No, sei pazzo, qui ci ammazzano! Ma non sono venuti sull'aereo prima! Eh, ma perché erano tutti da me, Gerry? Oh, cazzo! Ora siamo tutti e due qui! Sai che se ne compare uno al buio, poi si cagliava tutti e due in mano, si? Cazzo, che urlo che... Oddio! 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 È lui di casa con la finestra, ma quella l'abbiamo fatto, Gerry! Io c'ho lo al culo io, c'ho lo al culo io, mi vuole stuprare, guarda! È una donna che mi vuole stuprare, guarda! Oh, via... Gli lancio il tronco, eh! Cazzo, sto giocando via the forest, e non mi fanno finire i muri, cazzo, dragon! Ho paura Ah ma siamo già qui Guarda quanti sono Dove dove Gerry dove Mi pare di avere visti dietro la casa no Ve li so sognati Sì li sognati Vedi così vedi così Ti guardo se lo metti in casa Noo bastardi Ah ma sono preso in quella grossa Sono entrato sbagliato cazzo Dov'era la piccola Ok Ho ripreso la mia roba Però sto per morire di fame Aspetta salvo cazzo Perché la porta non si apre Ah Cazzo di gabbiano Ok Raviviamo il falò E ora riviamo sempre falò cazzo E non aumenta la fame Vedi che è buggato Ne arrivano gruppi di sei Il bagato Non mi mangia la carne commesso Stavo reddito Perché io c'ho un culo di fame guarda Cerchiamo un gabbiano Devo cucinarne due Perché io ne ho messo uno Te ne ho messo uno Sì ma sta cucinando Ok uno è andato Prendilo Ok sono vivo Vado a prendere velocemente i tronchi che avevo buttato giù Così completiamo la casa Un altro gabbiano mi serve cazzo Non lodo il sole cazzo Dov'è cazzo Eccone uno Occhio perché qui saranno loro Non riesco a prendere velocemente i tronchi Non riesco a prendere velocemente i tronchi Non riesco a prendere velocemente i tronchi Che cazzo è che vi blocca Ok Gerry abbiamo tutti i tronchi Gerry La presi? Sì sì E l'ultimo è qua Quello lì Vediamo se regge un po' di più questo Ok Mancherà questo penso Eccomi Non lo mette Gerry Perché ci siamo noi dentro Aspetta esci 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 Metterlo da fuoco Ok Ecco Sì Cazzo entra Cos'è sta roba? Salviamo 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 Non direi di non dormire perché c'ho poco cibo Magari mi sveglio morto E non è il massimo Dove sono i gabbiani? Quella casetta mini e la latrina No era la nostra casa Quella Come la latrina? Mangio lui Ok c'è dobbiamo costruire i letti adesso Aspetta devo mangiare Eh lo so devo mangiare Eh che devo fare? Fatti i letti possiamo andare Questo Che è? Mangio una gamba cazzo Me ne frega Anzi facciamo anche qualche cos'altro Dove cazzo sono i letti Gerry? Ok Bene così cazzo Posso mangiarlo? Casa galleggiante Letto piccolo Viglio morto Oh Cazzo buono Ma che vomiti Va tranquillo Ah minchia però mi levo un casino Costruire il letto è un pochino difficile Ci serve una corda e quattro conigli Eh una corda l'ho In realtà la corda volevo fare io la zattera Forse è meglio il letto però Gerry Eh i quattro conigli quando li troviamo? Ma perché i conigli per il... Cos'è il pelle? Il tessuto? Eh sì la pelle Guarda il sole è un eclissi Guarda guarda la luna cazzo È un eclissi Mi si può raccogliere sta roba No Madonna se è un eclissi Che paura Oh 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 Gabbiano Buono 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 Oh sì Ok Minchia la sete Hai messo della carne? No l'ho metto ora Mi dimentico se io la devo equipaggiare cazzo Vai Mennomare che a Danny ce ne sono di continuo È sboccato le riviste sozze Oh ma c'era della carne qui Nel vecchio Valò Buttata per terra Merda Eh Mangiato Sta per fare Dovrebbe essere quasi finita la notte Vedo la luna che se ne sta andando Ok abbiamo bevuto Ok ora mi serve cibo No cibo acqua mi serve Ed è vuoto Ma dovrei Insomma c'è il vestito di prendere l'acqua dal mare E purificarla Sicuramente c'è Sì sì la voglia Mmm No No cibo Non riesco a staccare il braccio di Pesta puttana Oh ok Cosa sta facendo Ce lo possiamo mangiare dopo no Eh ma se lo metti leva vita lo sai? Dici Perché lui soffre quando lo mangi ci fa caso? Ah sì infatti avevo sentito Letto piccolo Panchina di legno perché dovevi fare una panchina di legno Caminetto Tavolino Polto Stai di addosso Ok ha fatto giorno io vado a caccia di conigli Cazzetta Cazzo Andiamo un po' qui a sinistra se trovo delle Guendoli di solo scuro Oh mio Dio Oh mio Dio Eh ma che mi serve acqua Ah sette bastoncini ci servono pure Tre Quattro Ma questi sono tessuti Non mi serve Mi serve acqua Cazzo Cinque Sei E sette Eh però ti danno Ti levano vita Dragon Vabbè si mangiano proprio se stai per morire quelli alla fine Posso prendere quest'acqua? Dove può essere l'ultima spiaggia al braccio delle gambe Cazzo Poveri coniglietti c'è senza cuore No sono stronzi ci bullizzano quei conigli Praticamente vi toglie la vita Che stra cazzo oddio? C'è un varano Gerry c'è un cazzo di varano Prendilo prendilo io sono andato a sinistra vedete Se c'è roba Vieni qui pezzo di merda il coniglio Sì ma non lo prenderò mai Ah per le ossa Amica non li mangiavamo Conigli 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 Ma questo non è un campo Gli dovrai fermare prima o poi bastardo Vabbè ma c'è la stamina infinita lui Cristo come si lanciano le rocce? Ah ma ci si può parare? Cazzo Come si lanciano le rocce Gerry? Prima le avevi fatte Eh le devi equipaggiare Eh l'ho fatto E poi niente Clic sinistra me le lanciava Ma però le raccoglie per terra Non sono tutte eseguali le rocce? Alcune le puoi usare per lanciare Altre no Ah Lei dove cazzo sto andando? Sì ma spegni sto cazzo da cindire Mi sono caccato Ho visto muovere quella valigia Ah piccola roccia Ah E il nastro lo prendo Perché se a me serve No Mi sono passati davanti in tre Già arrivano Ma non mi hanno visto E accofacciati perché ti dà il segno dell'occhio Quando sei Guarda Che mi dà il segno Che ciò che non mi vede no Inquiettanti la musica di Benil Ora papà papà Che cazzo è Ancora squali È il relitto di una Di Che cazzo È una campame È una ruota Che cazzo sto cazzo Quella è un'ancora Mi sa che ho trovato Asce di pietra Ho trovato l'ingresso per una caverna No Quello è sbagliato Cazzo se lo è Niente E Ho trovato Una pentola Vecchia pentola Per buonire l'acqua Yes GG Yes Quella volevo cazzo Questi sono alcolici Non si vede niente Jerry fai le faccende di casa Io cerco i conigli Che cazzo è una casariga Piano di varanima Che cazzo i conigli Quelli sono più piccoli di quello di prima Non c'è niente Proviamo ad avvicinarci da dentro Oh cazzo C'è gente Ho trovato uno dei villaggi dei tizi Brutto Quindi loro sono al giro di giorno Vestiti Perché non stanno dentro Oh nostro adesivo Coniglio Cazzo se non c'è Restalire Restalire Sì battle Ma non ho idea di con che cosa Non ho idea Con che cosa Sicuramente non Dark Souls Qui hanno mangiato uno Jerry No Ah davvero ne hanno proprio Oh oh Era il doppio passo mio E' alcol O da bere Basta alcol Cazzo Dov'è la musica di venire Quando sai abbiamo capito Chi è la donna della coppia A posto A posto Quindi sappiamo di chi è il bambino Qui Jerry hanno mangiato un minimo 20 persone Ma te era necessario Ci sono tutti i corpi carbonizzati senza testa Hanno mangiato le testa e hanno lasciato i corpi Buon gustai Vecchia pentola raccolta Ok così mi ricarica la salute Allora mi avvicino in là E continuo a cercare robe No bloodborne non ho Oh oh Bloodborne lo faremo poi Dai no veramente Veramente Ragazzi dovrebbero riportarmi la PS4 oggi comunque Ho ammazzato la famiglia di uccellini Cazzo cazzo Non è idea di quanto cazzo mi senta un mostro Perché erano uccelli bellissimi E uno non lo posso dire che tre Perché so pieno Diciamo che io E c'ho altri problemi che sentimo un mostro C'ho un mostro alle spalle più che altro A posto così Non mi segui più? Non posso portare più carne piccola Ma è questa? Sì No solo tre alla volta ne posso portare Ma perché io c'ho ste rocce di merda? Dai ma perché sei qui? Non è possibile che vieni qui l'accampamento a rompere Devo ricaricare la stamina Nooo Aspetta un attimo Aspetta una Mi ha ucciso Mi ha ucciso Non ci sto credendo Cazzo C'è uno contro uno Proprio impari la cosa Come si craftano le robe? Che palle Stai Gerry ha rotto il falò Come Gerry? Come posso aver rotto il falò? Che che stai fatto? Mi hanno ucciso anche Come posso averlo rotto? Sei morto? Sì Con chi? All'accampamento nostro Mi ha inseguito uno Ah Lo hai piccola Eh si vede che ero un attimo in un combattimento Cioè Non so se hai rotato Vabbè ma comunque stava per esaurirsi ragazzi Era da due giorni che c'era Scusa La prossima volta lascio vivo il falò Mi faccio uccidere Joe Va bene Perché sono una pippa io? Sono loro che sono immortali Alla fine sono umani Sono primitivi ma sono umani Se ti hanno una picconata in testa muoiono E invece Dai Dai Diciamo che le hanno creati Degli Hulk sono Allora Ricopriamo l'accetto Speriamo che non sia ancora via Banchettare con me Non muoiono sti pesci di merda Jerry sono immortali Cioè lui è stato trovato tutti gli animali E trovo gli indigeni È incredibile sta cosa Io sono nel loro villaggio tra l'altro Ma loro non ci sono Eh sono con me Oh oh eccolo Dov'è la mia roba scusa? Prezzo di merda Jerry non riesco a ammazzare i conigli Sono troppo veloci Sono partito in missione per quello E non riesco ad ammazzare uno Allora Un po' di vita l'ho ripreso L'ho preso No Aia Che ca... Oh cazzo ho mangiato qualcosa di meno C'è il falò Guarda che c'è il falò Dov'è Joe? Ma Joe si droga Leggiano Guarda 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 Joe Dov'è? Dov'è cazzo È Joe Guarda 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 Tanto è morto dello stesso Guarda Vi avete due Puttana Ora ne ha trovato uno lui Eh che cazzo Un po' per uno Ma perché devono sempre far paurissima quando arrivano? No a me Almeno quello a me no Cioè mi è venuto da dietro Di soppiato Sono in due Ma mi dovrei mettere quest'altra Che fa più danno Scusa Guarda retro Bastardo Uh ecco l'accampamento Che diceva Cazzo C'è uno dietro Cazzo Ah non vi è in acqua Guarda Seri sei tu Ho un accordo ho trovato Un'altra corda Guarda Possiamo fare la zattra Cosa cazzo ho messo? Che c'è? Niente ho fatto la parte insolente Per sbaglio Cazzo vado a fare la zattra tantissimo Che sicuro E' vero incendia l'ascia con tessute di accendina e muoiono prima Ma se bevo l'acqua del lago Cancro Puttana No Che c'è? Che c'è? Mi sono ucciso bevendo l'acqua del lago Perché? Così è tossica? Faltana a quanto pare Salvami Jerry Salvami Presta Jerry Cazzo Mi conviene passare da terra Veloce Jerry Veloce Jerry Jerry Muoio Cazzo Vado lento in acqua Jerry Jerry Sto ristando Sto ristando Jerry Ok Non bere mai più l'acqua di questa merda Ma io non l'ho bevuta No no lo dicevo a me stesso Ok Ho visto un banano Corri Jerry Corri Ora vado a fare la zattera Tantissimo No ci servono armi per prendere i conigli Jerry così non andiamo nello stesso No c'è la trappola per prendere i conigli Può fare le trappole L'hai fatta? No Ho capito Sto facendo la zattera Voglio dire Allora Voglio vedere quanto è difficile Mettiamolo un po' più in qua Perché se no magari Arena Ah solo 13 legnetti Si può provare Cazzo Mi manca Legnetti e un tronco Ah ho 7 tronchi Aspetta ci sono quei tronchi Manco per il cazzo Sì sì Ma gli achievement Mi ha sbloccato una civ Nelliquidi stava lievitando No non guardare Lo guardo Ok ho fatto la gabbia Vediamo se ci cascano Eh ma il zotto La gente andava a gire Poi li lasciava Faceva il soccorso Dove cadi? Ok Allora 1 Sono raccoglie 2 Ma le valigie che si spostano Mi fanno un'ansia incredibile Ok Serve anche il legnetto Vado a prendere il legno Di nuovo il cibo Ciao Gabri Ciao Gabri Ahi ahi Fai la respirazione bocca a bocca T'avevano detto Noo no 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 Ok No, 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 che succede? Sono pieno. Ma il cazzo non l'ho lasciata la drappola? Qua. Niente ancora. Stavo a creare un altro. Tre. Da dove cade? Ah, ok, davanti. Ok, uno. Dai! Che cazzo! Eh! Perché hai caduto quell'altro? Va bene. Eh, io ho fatto due trappole, ma i conigli non arrivano. Eh, ci vorrà del tempo, cazzo, neanche istantanio. Eh, ma ho aspettato due minuti. Eh, vabbè! Tre, tre tronchi. Un'esca? Può essere, ma ci dovrebbe essere scritto penso lì Aspetta qual è il tronco che ho distrutto scusami Cazzone sono e butto giù un altro Sette trone, sette rametti Questi bastardi che continuano a girarmi in tondo ma non entrano nelle gabbie Pezzi di merda Mica veramente Cristio che fastidio Che fastidio Cosa Jerry cosa? Ha sempre fame, sempre Io no, sto benissimo Ma se non è perché sono morto Ah beh sì Cioè quando spanni, spanni fame e sede a mille Ora ammazziamo un gabbiano Permesso? Ok, due rametti Mi manca uno, provare un gabbiano prima Ma il falò è vivo Dov'è? Non è che devo mettere un'esca Dai, dovrò mettere qualcosa per fargli andare qua E alcol Cazzo ci devo fare con l'alcol Guarda quelli Ah eccole Eeeh, ho tre o quattro Riktana Ma si può mangiare la salta ruga? Gli tira un sasso Improvvisamente alla giura No, la bambina gli tira un sasso E' partito? Nooooo Sto dire perché sto tirando i sassi agli uccelli Cazzo, è bellissimo No cazzo Eh liquido, c'è un problema Cosa Jerry? Mi stanno inculando cazzo Arrivo Jerry Il culo, come si muove sta merda? E' come lo ritrovo sto posto però dopo Vado via cazzo, vado via Chi mi si incula? Dov'è? Che fai mo eh? Ho un piano, ho un piano Che facciamo? Ok Così mi metterà sempre l'indicatore del bastoncino Piangi Piangi dai Arrivo Jerry Eh non mi prende, sono in mezzo al mare Guarda, guarda Ah ma è subito dietro sto cazzo di posto il laghetto Cazzo quella è la tarteluga sulla spiaggia Eh dai non mi fa prendere il cibo Sto morendo dai Scappa senza liquid vai No c'è un gabbiano lì Ma cosa? Ma questo qua ti sta mettendo in crisi? Sì Ho poca vita e poco cibo cazzo Vabbè lo ammazzo io No Non torno cazzo Dove se ti aspetta Se di merda dammi la testa Di come si muove di merda cazzo la barca Porca puntana Dove è il gabbiano? A terra a terra con calma con calma con calma con calma con calma con calma bello 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 Sartaluga Sì ma i falò non ho via di conti ma non c'è un falò più resistente tipo Sì sì ce ne sono di quattro tipi tipo Eh perché Dio buono Buca per il falò Forse è meglio Questo qua è forse più resistente Che li dici gli uomini Facciamo questo I miei DPS sulla tartaruga Legnettini e tronchi mi servono Eh legnetti li ho messi tutti sulle trappole che mu vado a controllare magari io ho preso erano mi serve subito cibo perché sto morendo cazzo ci dovremmo fare anche questo contenitore per gli oggetti perché noi ce ne possiamo passare questo gabbiere mi passa davanti e ora lo uccido chi è sto robo il falò? il falò ma cos'è il falò per i giganti di dark soul 2 che è un po' grosso dragon grazie mille per il follow benvenuto te lo dirò io e perché a te piace uccidere ma questo è quanto? allora torniamo a vedere delle trappole cazzo il cibo è mimi storici ma non si sta più abbassando da giù questo tronco non mi sta indicando il potere no 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 dove cade? prendi anche quell'altro accanto avevo messo un indicatore niente l'ha preso? no non l'ha preso non lo trovo più gerry cosa cosa c'è? ah lì la gabbia ho trovato ho trovato ho trovato cazzo quanto me ne serve però no spai non è il lago questo dove cazzo sono finito? ho perso il lago chi è sto rumore? sono io? no mi sembrava più di qua o sbaglio? ah qui c'ha più tronchi aspetta uno c'è solo uno? aspetta un attimo lascio qua un attimo ah no dai era tipo era qui dai ti pigli di puttana è tutta colpa vostra conigli di merda vi odio quello è un rogo ci mettiamo gli cannibali qua dentro ah ok dov'è era il contenitore? niente jerry ho perso il lago no cazzo e con essa la possibilità di avere un letto ma mica degli stecchini e lo so devo mangiare sto facendo il falò per quello sto cercando di fare il falò ma è strano dovrebbe indicarmi il martello però avevo messo un cosa con il martello vicino non ce lo fa più nemmeno a tirare le cose dovrebbero bastare non ce l'ho mai prendi più io un altro più semplice si è prosciugato non c'è più c'è questo si è ridotto a questo cosa una lana? ho sentito una lana? c'ho qualche barretta? cazzo c'era uno al culo oh merda merda che cazzo fanno il nostro accampamento questi? ma chi? gli indigeni? ma ancora ma basta ma sempre visto? stanno accampando lì qui c'è c'è giordi non li abbiamo aperto noi questi? giordiii? nooo vaffan... ciao gomboni! gomboni? è muo è questo gioco gomboni? è muo è questo gioco gomboni? è muo è questo gioco ah! puttana! però posizioni cibo scusa no già li sono morto come sei morto? ah cazzo! ne ho 5 dietro cazzo vado via 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 ma non riesco a posizionare il cibo io non trovo più il loro villaggio avevo lasciato tutto lì cristo ma non posso posizionare il cibo in questo? sei scherzo? era qua era il villaggio perché è sparito? ah quello è un rogo eh sì però dio santo almeno sei trattato sì è vero dai dammi cazzo di cibo dammi cazzo di cibo che sto morendo dai dai sta facendo buio io te lo dico sono qua gerry sono qua dai cucina no ma è troppo grosso a capire il cibo cazzo veramente devo ritrovare quelle gabbie prima prima che faccia buio cazzo mangio aspetta forse dirà forse l'ho trovato mi serve un altro gabbiano instant cazzo se no mi mangio un indigeno eh eccolo l'ho trovato siii era molto più vicino di dove sono andato a cercare io cazzo ok le gabbie le avevo messe qua è vero posso cucinare le balere con quel falo gigante cazzo la trascino dentro io non ho parole perché vuote vuote dai allora ci vuole veramente un'esca aveva ragione eh ma non mi fa mettere nulla non è che mi esce una roba da mettere ah ma siamo stati sfigati no dove cazzo sta andando no qua non c'è niente qui c'è la morte cazzo vabbè arrivo gerry ho fallito il mio compito cazzo vabbè la zatter l'abbiamo ora non guardate che noi ho trovato una cosa bella però cioè tre corde gerry eh si perché io l'ho finita fare la zatter poi ho la batteria che non so di che cazzo farmene ho trovato le corde come si vede quel falo gigante da lontano cazzo è un faro è un faro ho trovato le corde per il led cazzo mancano quattro rametti e le pelli ancora qui manca il cibo altro che mancano ma perché c'è questa carenza di cibo incredibile c'è ma io so pieno di cibo ma che cazzo ne vuoi un po' c'ho anche 99 foglie io mio c'ho quattro vabbè ma aspetta c'è questo di farò in effetto adesso cazzo ma non lo puoi utilizzare questo falò per cucinare no a che serve non lo so che cazzo hai creato c'è non lo so mangiati la bistecca dai qua cazzo io avevo detto cazzo ho detto un falò era nella sessione dei falò ho detto sicuramente che è il suo rumore ma sei te eh? si si ok hanno messo una anche per me a non mangiarvela non è non ha piovuto? non è uscita acqua? no niente siamo fottuti aspetta io c'ho la pentola aspetta vediamo cosa posso fare con la pentola pure io c'ho una pentola se io la raccolgo no? e faccio così ora è piena d'acqua? no come la raccolgo la rolla? no la posso mettere qua sotto c'è la carne prima che si brucia liquide non la raccoglio ho provato la dare sotto acqua non c'ho provato anch'io non è niente cazzo mangio che c'è la carne che prova mette la pentola dopo ok ah vedi la posso mettere? se metto c e quindi? cosa cuciniamo? e quindi? una matriciana? tiè ho messo una bistecchina ora avete un secondo sole no non mi fa mettere altro solo metto un braccio non lo so c'ho un braccio umano con boni c'ho un braccio umano perché possiamo cucinare le persone ma quello è un braccio umano si con boni non sono trappole quelle sono contenitori di conigli le trappole sono fatte in maniera diversa ah ma 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 c'è ma come? ma si chiama trappola ah no è gabbia trappola per conigli 31 ne serve e basta di legnetti cosa hai fatto? te non lo so ho sbagliato tutto gerry cazzo ho sbagliato tutto vabbè ci vuole poco 31 legnetti continuo io vediamo ma dove cazzo è? ah eccole qui l'ho fitto per fare che sta a spare cazzo eh ero pieno pure io di legnetti ma sono tutte per le gabbie le fiamme che trapassano dalla padella ma che sta facendo? quindi ho sbagliato tutto ha cucinato il corpo umano ho sbagliato tutto no mi serve acqua mi serve cazzo ho sbagliato tutto le brancine dovete buttarle nel bonfire che potete usare le ossa che ne escono fuori per armatura ehhhh nel bonfire? nel falò? ah puttana no 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 il fuoco è bruttissimo che non si può vedere cazzo falò di merda Zukunft che ha creato sai che sei fuggiato? ok ero smesso si ma qui vicino hai messo la trappola? si tu dici che ci cascano qui con tutto il sto fuoco? sì dai è scrittata la cosa non è possibile che sia fatta così bene scusa sei ora sto zitto hai seti e trova della coprita da bene dove ma la pentola è accaduta come si è rotta no scivolata di l'altra la raccogla tanto è calda metto in tasca ecco le ossa le avevo le avevo già tre quattro ossa allora anch'io ne ho ne ho 2 ai posto combinare se faccio così avanti le serve però quando erimo e si guarda l'ingranaggio e cominci a mettere sono a metà io e nemmeno considero quindi ne 8 ne servono ma se metto questa più metto questo e lo combino cazzo moto ho fatto libido foto moto mi fatto una moto se brucia quei bastardi appena l'indicato a euro fa che ne arriva uno cazzo io c'ho l'alcol comunque per bere ma te non mi sa che non lo hai sì ce l'ho ma posso bere anche quello sì sì ti devi aumentare la sede ma dimmi d'altra roba eh però l'alcol penso sia l'unica cosa che non mi manca cazzo oh ma che vale però sto squadro spostiamolo da qui secondo me non vengono i conigli eh ma non vuoi perché è notte ma non l'ho creata jerry ah non l'ha creata? eh no è posizionata mancano i leghi ah no mancano i dosi per cazzo ne mancano 21 da cazzo riprendiamo io vi provare a lanciargli una moto jerry aiutami a buttare sto squallo di merda via da qui si sposta no proviamo a bruciarlo non bruciarà mai cazzo è gommoso cazzo che da fastidio è sempre qui tra i coglioni sto squallo di merda basta di ordine l'ho tornato prima io di voi cazzo ok vediamo se brucia merda no lo sta proteggendo il falò lo squallo di merda nooo che hai fatto? hai rotto il falò? si dai ho colpito lo squallo per la rabbia ma ho colpito anche il falò nooo ma siamo alla fame quale caverne crasher? vado a prendere i legnetti vado a prendere i legnetti aspetta vengo con te che c'ho la moto vale che va agli illumini magari ci fanno anche luce non vedo un cazzo ok ok speriamo che non mi esplodi in mano ok sassetti no no non mangiare funghi cazzo che c'è? sei tu sei tu sei tu sono cagato ok 1 2 manca uno dai se mi esplodi in mano butto un urlo ok ma non ci sono? cioè io voglio lanciare una moto però non ci sono eccoli può essere? ho sentito dei passi? non eri tu? oh no non posso portarne altri prendili tu gerry io 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 vai presi ok bravo ste gommoni metti la radio mai più cazzo mai più questo cazzo di falò inutile gigante no 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 li sta tenendo lontani eh è lui che li sta tenendo lontani dici? eh beh può darsi si che serve a quello allora il falò non mangiare le more che non sono azzurre dice hm ok allora possiamo fare anche il falò più grande però servono ah no mi sa che è quello che hai fatto tu tu quale hai fatto il falò quello lì più grande sulla destra dov'è aspetta falò quello che si chiama solo falò si falò quello lì ho fatto si che era più piccolo nel disegno se posso ah mia disculpa la mia disculpa sembrava piccolo proviamo a fare la bocca merda servono due sa dai lì ho fatto ho fatto ho fatto ok c'è più fuoco qui ti ho buono che in tutta l'isola la cosa è qua tutta pure una bistecchina questo durerà di più almeno di quello piccolo no? se non lo colpiamo poi colpa di questo squalo di merda rotti coglioni è sempre qui ok no il guscio non mi serve lo prendo gabbiano lo prendo no ma ok oh ok ah non si può mangiare la tartaruga? si 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 ah si si m**ca buono Crazzo ho mangiato solo tartaruga fino adesso c'è da mangiare prendi da mangiare che è due tri mio dai mio 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 ok tra il due 51 bastoncini Ma poi è infinito quel fallo che ho fatto Io mi ho messo la legna lì, l'erbo Guarda quanto Madonna, non finirà mai Finirà anche il gioco, finisce, ma lui no Che poi abbiamo fatto la casa e non ci siamo mai entrati Non ci siamo ancora fatti un cazzo in quella casa E' costata tutta la foresta Mamma mia No, ho fatto un altro raccoglitore d'acqua Minchia, ma ho fullato la vita Eh, la ho fullato la vita perché c'è un'altra carne, non vorrei che brucia Prendilo un po' Eh no, sono pieno Mi sembra una spreca Ah, perché non vorrei che brucia la carne Eh, vai, dai, mangio io Ma mi manca l'acqua, cazzo L'acqua mi manca di continuo Ah, infatti ho messo un altro raccoglitore qua Così quando piove almeno abbiamo due Cazzo Ah, apposta Povero tartarughe vengono qui a morire, cazzo E muori, strozza Oh, buona mano, ok Guarda quella scotetta, guarda quella scotetta Ah, mamma mia Che cosa brutta da vedere E anche il mio trofeo, la testa Che cosa brutta da vedere Che sembra un cazzo quella testa Sembra proprio un cazzo Mamma mia È lunga col cappellone Fa vedere Butta via quel pene Sto squalo di merda Ma le teste degli squali Che fine hanno fatto poi Ah, le ho tagliate io Non so cosa ci ho fatto Però onestamente Non mi ricordo Abbiamo decapitati tutti E sono rimasti questi corpi di merda Che non riusciamo più a togliere Sai come si può chiamare Il glande giapponese? E stai in tartaruga È un caso? No Ma noi abbiamo ancora capito Dov'è il sonno Gomboni No È la tua la che cerchiamo Decapito ben sonno Perché almeno è la prima giornata Andiamo a esplorare, no? Andiamo a dormire Sì, dai C'è ragione Eeeh Geri, non fai il sole della tartaruga Andiamo in questa casa qua Sì, ma non c'è il letto Che cazzo Non ci fanno a dormire? Eh no Ma che stai facendo qua? Ah, il letto era Eh, il letto volevo fare io In quest'arte si fanno a dormire però Mi pare che c'era tenuto scritto Ma che cosa? No, c'è per salvare Sì, sì, si fanno a dormire Guarda Può dormire qui Ma non quell'altra Vabbè Guarda, svegliamo mezzi morti Eh, sì No La sete più che altro E' l'acqua che mi manca Eh, la sete è rompico io Ok, proviamo ad andare a giro Ora che va appena dell'alba Cazzo, andiamo ora subito Sì, sì Perché Sì, no Allora, ci servono i legnetti per la trappola 31 legnetti Non c'è noio un po' di legnetti Possiamo creare Comunque una trappola E mezzo al bosco Non occorre che la mettiamo qui Cioè, quella sta lì Ma non ci ho messo neanche un legnetto Quindi è nulla Oh, proviamo veramente a entrare nelle caverne, ma Mmm, ho paura Vabbè, faccio da fare di te, tranquillo Aspetta, mi metto quello che fa più danno, cazzo Vieni qua No, sono pieno, sono pieno, Jerry, prendili Cazzo, con un colpo le butto giù io, le niente Vai Ok Ma dove era la caverna che avevi visto? Vai, Jerry La caverna era... Era verso, verso l'aereo L'ho trovata quando ero... Salvate, cazzo, l'abbiamo salvato! Vero, vero Così metto anche... Folli, folli Guarda! Sono stanco, Jerry, aspettami Io ancora non ho capito qual è la stanchezza, però Qui si può salvare almeno, sì? Che tecnica si può salvare! Che tecnica si può salvare! Che tecnica si può salvare! Loll! Allora, qua c'è il recogitore... Salvatiamo! Ok, salvassi! Qua si poteva salvassi, un po' qua Continua a metterli qua, gli stecchini Perché intanto noi qui dovremmo poi mangiare Almeno mi svuoto un po' l'inventario Ok, ho messo i quattro rimanenti sul letto Così mancano solo dei perni Ma no, ma non la trapola qui Potevamo farla... No, no, lascia qui Almeno è più vicina Eh, ma non so se funziona No, biglia... Ormai mi mettono in bocca che funziona Non può essere così realistico, cazzo Ho bevuto l'alcol Eh, io non volevo berlo La bambina gli tira un sasso Improvvisamente la figura si apre Mettetegli professore, mettetegli, cazzo Ma professore! Ma quella è una pistola vera Possiamo portare anche il carrello per i tronchi Ma quanti ne abbiamo lasciati qui? Eh, lo so, ma che si fa a girone la caverna con quell'oggi, cazzo Ah, è vero, stai risolvendo la caverna Ah, qui l'avevi vista? No, no, non tocca a quella roba lì È una roba fallaccia Distruggila Ecco Ah, ok Era la roba dei gonigli che non funzionava Perché non era una trappola Infatti non aveva l'aria di essere una trappola Allora, la caverna era di qua, comunque Se la ritrovo Comunque se riesci a prendere questo qui che hanno loro fa più danno, eh È un po' più lento ma fa molto più danno dell'accetta Cazzo C'è con un colpo di butto giù Geri prendili, Geri Ah Ok Non posso Prendi tutti i bastoncini Ti però è stupido che non puoi buttare via la roba E poi inventerò sì piena Riempititi i bastoncini Servono per la trappola Prendili, Geri Cazzo è uno Gli esci i piedi, Geri Non si vede un cazzo Non si vede Vai, presi, presi Ok Sì pieno Mi stanno padendo? Ok Cazzo mi cadono Siamo pieni Questa qua dovrebbe essere Figlio di puttana Vieni qui, bastardo Ma chi ce l'ha? Dei conigli di merda Questa avevo visto io, Geri Ci si può calare qui dentro Ma stai scherzando? Io vado, Geri Va bene, torno all'accampamento, eh No, Geri, scendi con me Non fare la strozza L? Geri, sta crashando tutto Ok È crashato? No, no, no Quasi Vabbè sì Vabbè sì Stai serio? Sì No Aspetta, non scendere Aspetta, che sono appeso Mi sono appeso Porco di quella buttona Geri, sui soli Sui soli, Geri Io posso Sono crashato Cosa c'è? Non lo so, Geri Non ho capito che cazzo è quella merda Cosa c'era? Non lo so Ho avuto paurissima Io per questo non volevo andare No, 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 no Io vado via da qui Lascia stare, Geri Non ci andiamo qui Cosa? Come ci faccio a tornare nella? Ti unisco direttamente da Steam Ok, mi sto volendo Ti voglio unire, sì? Sì, sì, mi sto volendo Ok Minchia, ma ho fatto troppo di frame quando mi sono calato, incredibile Eppure a me, però Ecco, ancora Però a me ce la fa Dopo Resiste e dopo si riprende Sì, ma dovevi far caricare, però nel letto a me Sì, penso Dove l'hai salvato l'ultima volta Cazzo, questa cosa deve un po' ottimizzare No, io qui non ci scendo più Mi sa che è un po' presso per le caverne, ho sbaglio Cazzo, presto Ma no, il problema è che non è ottimizzato Non è che posso crashare ogni volta che entro in una caverna Ah sì, respawno qua dentro Sì, è l'ultimo salvataggio, suppongo Eeeh, ah, si è spento quello grosso No, comunque, Jerry, c'è l'inferno Lì, c'erano dei Vabbè, te che c'è perché vuoi vederci morire, dici così Grazie al cazzo C'erano delle cose brutte, servi Non c'è andare, basta No, mancano 11 legnetti Come lo tolgo, sto cazzo d'accendino Oh Eh, ce li ho io i legnetti, dov'è? Qua Ne manca uno, Jerry Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ma questo non possiamo romperlo per fare legnetti, no? Vai, fatto Ok, aspettiamo adesso Continua a pensare a crash come un'avvertimento Non scendere, non scendere Pam, bloccato il gioco Io ti ho detto che se volevi sapere come si fa la natura Ah, ma tu ne basta avere le ossa Eh, basta avere le ossa Eh, bisogna ammazzare i bastardi Eh, vabbè, quando vengono qui io un po' di ossa ne ho solo due per ora Ma l'infa che ci devo fare con l'infa? Boh, sono pieno pure io di quella roba lì Poi c'ho monetine, per creazione di che Se non avessi tanta roba nell'equipaggiamento avrei provato ad andare lì Ma guardate che cos'ho ragazzi, dai Questa è variata Cazzo, la carne va male, Jerry Eh, l'ho immaginata Dobbiamo cercare di non accumular troppo Oppure si può creare una specie di frigorifero Ma non va? Da usare come slitta il guscio di tartaruga Ma che cazzo scrivono, drogati Me la do io, me la slitta No Come la va di carico, cazzo? Riprissa l'energia Eh, ma Con la linfa ai denti potenzi le armi Con le monete magari fai proiettili Può essere? Potenzi le armi What? Con la roccia, che cazzo Che succede? No, no, niente Sto provando a trascinare il rametto Continuando a prenderlo Perché sono pieni Guarda, non va più Cazzo Cambia cassetta Sì, ma secondo me la trappola va messa dove i coniegi ci sono Qui non ce ne sono, Jerry Ok Vai, guarda parte Cosa parte, Jerry? La musica, c'ho Ok Ma te non la senti, quindi? No Vediamo se va vicino No, la dovrebbe già sentire No, Jerry Non la sente Dovremmo creare una trappola qui Ma in realtà servevano se li attiri di giorno Perché ne arriva magari uno e lo ammazza No Guarda che generata Puoi mettere la radio qui all'albero, guarda Cazzo, ora la sento infatti Così attiri loro però, cazzo, Jerry Eh, ne ammazziamo uno Ne ammazziamo uno, vieni Ah, per farciamole ossa? Cazzo, sì Ma mi sa che funziona solo di notte Il giorno che scrive son fussi Non vengono No, arrivano, arrivano Dici? Cazzo Cazzo, sto muoendo di fame Sì, zatti Però mi spaventi i conigli Liquid lavoro e Jerry ascolta la musica Vabbavia Ho fame Guarda che non vengono Guarda che si cacano in mano Eh, dovrei cucinare la carne Cazzo, è finito Ah, stai ripartendo? Che cazzo si sta arrotolato? Che cazzo sto facendo? Ok, è ripartito La sento anch'io comunque se posizionata lì Ma qui ci sono le mie gabbie di merdi su Gli stai schivetti Non vengono? No, me la ripiglio, non vengono Oh no Magari Fanculo Ma la ripiglio, cazzo Cazzo, allora Lo posso tagliare gli alberi con questo? Ho sprecato tantissimi regnotti per sta merda Non serviva, non serviva Ma fanculo Ma là dove c'è le cabane di... Cazzo, però Aspetta Ma si può mangiare sta roba? No, cazzo Stavo per bere l'acqua del lago Non bere l'acqua del lago No Cazzo Mi sono cacato in mano per la valicia Vaffanculo Qui c'è morte di istruzione ovunque Hai trovato il villaggio? Sì, quello è dove ritene C'è uno sbari Oddio, che paura La pioggia finalmente Che paura D'acqua Cazzo Sto prendendo le corde per impiccarci liquid Bravo Mi è passato davanti a uno sbari Ma non mi ha visto Ma come? Ora che l'ho levato la musica Che cazzo è? Qui è pieno di conigli Comunque è meglio così Era uno di quelli grossi Eh, lui però ha quel bastone forte Eh, ho capito Ce lo dà anche in testa Quel bastone forte Cazzo, era quello che fa spaventare persone Ma che non ce ne sia nemmeno uno a giro Mio Dio Mi sono caccato Perché si è abbassato l'albero No, guarda qui quanti Cazzo Ma delle valigie no, eh Guardi che cazzo c'è Quante cazzo di pentole che ci sono Mamma mia, la stamina che non ho Ok Boh Lasciamo la trappola qui Ma intanto andiamo a vedere l'altra Cazzo è, roccia? Ah, ma sono tornata all'aereo Ma è spannata la corda L'avevo già presa qui Rispaunano gli oggetti forse A quanto pare Ah, qui c'era un falo improvvisato Perché c'è altre valigie da aprire? Scarseggiano i rametti, comunque Mi sto caccato Oh, cioccolato, cioccolato Distruggo la vegetazione, cazzo Oh, sono ricresciute le piantine O i rametti qui GG Ma è Guarda là, quante Non c'è niente qui oggi Ah no, ma sono da un'altra parte Cazzo, non ero dritto Vediamo se la trappola ha preso uno di quei bastardi Non ha preso un cazzo Cazzo, cazzo L'abbiamo posizionato di merda Io lo sapevo, vaffanculo Eh, parecchi onigli erano dove c'è il loro accampamento Eh, infatti L'altra trappola l'ho messa lì vicino Che poi un teschio con le mani delle spine Su un bastoncino fa più danno di un'ascia abbastanza affilata Per tagliare alberi e carne Però, a quanto pare Cazzo, 256 foglie Io le ho le foglie 60 Qui? Cosa c'è? Mi ho messo due bistecche No, la cosa che dà più loot sono le valigie Ma ha piovuto? Ha piovuto prima, perché non c'è l'acqua? Ma poco ha piovuto, mi sa che non gli è bastato Dai Jerry? Che c'è? Rinus Bari? Vicky, io sono lontano Ok, ma stanno andando via Non mi hanno visto Sono passati e basta Lì c'è una barchetta Aspetta Davvero, è bastata una bistecca Cazzo, non ho sprecato un'altra Sicuri non dovete mettere un'esca nelle trappole Ma se non esce una finestra La dovete mettere una roba Eh, non esce un cazzo, ragazzi Io vado qua vicino Non mi dice di premere C per mettere qualcosa Beh, non c'è niente, veramente Che sto circondavigando l'isola e non c'è niente No, vado a vedere l'altra trappola Che era vicino ai conigli Se non ha preso quella stavolta Cazzo, qua ci saranno Sicuramente c'è un buco per andare da qualche parte No, finisce l'isola qui? Prova a fare la cazzata Guarda lì che ho perso di nuovo il lago Ah no, eccolo qua Quindi la trappola, eccola qui Dai, non è neanche qui, Gerry Ma dove c'è un loro? No, dove ho messo l'altra trappola Più vicino ai conigli Un cazzo Non entrano No, allora forse c'è da mettere Della roba O delle foglie Non so che cazzo mangiano i conigli Che cazzo ne so Altri conigli, no? Mangiano di tutto quei merda di coi Mangiano pure i fili dei joystick Cazzo, perché non entrano Verda, verda Ma volevo vedere Perché in questa isola qui pensavo c'era roba Non c'è niente E' un'isola così la cazzo? C'è, c'è tartaruga Guarda lì qua i conigli Pure i vanani, cazzo Ma da poco entrano quelli Altro che Cosa ho fatto? Ah! Non so cosa ho fatto, vi sa Mi sono messo del fango addosso GG E magari loro non mi... Guarda Forse loro non passano inosservato Ci sto sperando Eh, che non so Perché ti fa mettere il fango addosso Scusami Perché è musica? Vabbè, mi avvicino Torno indietro perché Ma quindi le caverne Se c'è pericolo Ci dovrebbe essere anche un... Sì, ma c'è una roba disgustosa Lì sotto C'erano bambini neonati Con quattro braccia C'è una roba brutta Stai scherzando? Sì, è per quello che sono risalito dalla paura E ce ne erano tanti E non nemmeno sceso dalla corda Erano ancora sopra Erano già lì Posizionati Ma quindi non sono umani? Che cazzo sono? Sei un nero Che cazzo sono allora? Non lo so Io ho avuto paura No, penso che ci siano le armi da fo... Sono rare ma sono... Per il sole Ah, diceva non farti bruciare? No, secondo me invece è per poi essere inosservato Per loro sono scoperte Ci fosse una tartaruga Cazzo No, Cristi, no No Esistono umani con più braccia Scusa, però Senti, io appena ho una pistola Sparo a quei merda di conigli Di massacro Addirittura? Sì, cazzo Mi devo vendicare No, no Puoi fare la fionda Perché mi ha detto che c'ho le munizioni per la fionda Dov'è? Aspetta No, questo è per loro Liquid Per chi? Per gli indigeni Guarda Trappola a trabocchetto Corda oscillante Trappola con cappio Si possono luttare Si possono fare le armature Catapulta Arredino Me ne frega un cazzo Non c'è armi Non è che lo devo spaventare Fino a farlo entrare qua Al coniglio Lecca, vero? Quanto Eh A sto punto Ma dice Che possiamo costruire un segnale di SOS Perché cosa? Non lo so Non è che magari ci buttano del tipo airdrop Può essere, sì Lo vedo possibile Non ci sono le armi da fuoco però Cioè, né armi, né armi da fuoco Cazzo, sta facendo buio Facciamo che torni indietro Scusa, da dove sono venuto io? Cazzo, da qua sopra? Come si costruiscono le fionde? Ho bastoni e corda? Eh, non c'è Non trovo la sessione per la fionda Però dice che c'ho le munizioni per la fionda Guarda, guarda Flurka Ho fatto una lancia Io ora che Mi congelo Oddio, se i conigli con la lancia riesco a prenderli Ah, mi dà fuoco Da quello che so C'è solo i lanciarazzi Segnatori che puoi solo trovare Ah, ok Anche i lanciarazzi Avrò una te tu Non è che è una caverna questa No Devo costeggiare, cazzo C'è da questa parte non c'è veramente una sega Cioè, se me tutto nell'entroterra c'è la roba Cioè, ma io come ho fatto? Ma io sono sceso, secondo me Non mi sono fatto arrivare Non ho fatto tutta questa strada a nuoto Ho creato un'ascia con la roccia, Jerry Ma te crescere vuol dire che il gioco l'hai già visto? Come fai a saperlo? Cazzo, sta trabottando il sole, io lo so Sì, andiamo via, va No, vaffa a culo Sì, ci sei spaventato Mi ha dato una roccia con la lancia Pensavo fosse un coniglio Figlio di un coniglio bastardo Non ho stabile Sì, ma quanto prima di tornare in spiaggia? C'è Cazzo, ecco i riservi Prima dell'ultimo giorno Merda, sì, tu non hai detto dove sono io Puoi capire Stanno facendo la ronda qui Ma relativamente sono vicino Prima dell'ultimo aggiornamento Preso! Figlio di un coniglio! No, no, Cristi, Cristi No, perché poi dove sei una pendella roba L'ho preso, Jerry L'ho preso Cazzo, sta facendo buio Qualcuno, mi porta anche la testa Aspetta, forse di qua? Cazzo Vado ad accendere il faro gigante io intanto Non vedo niente No, Alisso Non stanno funzionando Ok No, dai, Dio santo Sono le zappe che portano fortuna Ma quanto cazzo sei andato lontano, Jerry? Eh, lo so, eh, lo so, eh, lo so Eh, diciamo che era Che succede? Perché si guarda la mano? No, il problema è che sono in acqua Sto cercando di arrivare arriva Allora, sono tornato, ho dovuto fare l'assistenza Funzionano le trappole No, Alisso, no Funziona Abbiamo fatto tre, cazzo Sono ancora tutte così No, io non vedo un cazzo da accendere L'unica pelle di coniglia Quello lì che ho sciuto Ammazzato adesso con la lancia Ma mo' ho fatto Ho fatto notte Quindi non posso neanche più riprovarci Proviamo a scalare la Non sono fortissimo L'ho sentito Dani Ok, no, non sono lontanissimo Ma si è spento Ah, ok, devo alimentarlo Non sono lontanissimo Niente, ho mangiato la Ah, sai perché non ti saliva la fame Mangiando la carne Perché? Probabilmente era bruciata Cazzo Si, col cazzo Quella madonna l'illuminazione del tuono Ah, no, ma aspetta Questo è il coniglio che si mangia Mi mangio quel fottuto coniglio, Gerry Dai che piove Ma come dai? Che pioce la volo, pof Cazzo Gerry, ecco ti No, non ci credo E non ero sentito dove ero Dove cazzo ero Sei un castello fatto dagli DJ Devo rifusarmi al falò perché sto Letteralmente Congelando Non mi mangiare la carne No Ok, vediamo questo Ravviviamo questo Etonicamente ce l'ho anch'io la carne, sì Ma sei già spento, ma che cazzo Eh, perché piove Eh Ravviviamola Ma il coniglio? Eh, non è perché sei spento l'hai... L'hai perso Eh, no Coniglio crudo? Ma no, l'ha preso Ma rimettilo Cazzo Non è perché ce la lancia in mano? No, no, l'ho rimesso a cucinare Era ancora crudo Ci vuole tempo per il coniglio, mi sa Vai, puoi prenderlo? No Ah, no, no, ora l'ha messo, ok E dove le trova le carote? Dove le trova le carote? Ora lo puoi prendere Guarda, metti il mio Ma lo potevi già mettere, Jerry Non devi aspettare che finisca il mio Ah, proprio, vale Anche due le puoi mettere? Sì, ne ho messo anche quattro prima C'è l'acqua se vuoi, Jerry Minchia, con un solo se la riempie, buono Tieni, Jerry, è per te Cos'è? Che cazzo è? La testa del gambiano Oh mio Dio Oh mio Dio Aspetta, ve la metto in casa perché questa mi fa comodo Dov'è? No, l'ho persa, dov'è? Ma va, ma vi è Che c'è? Ma fattulo Il gambiano dentro la trappola per i conigli Vabbè eri incoglionito Coglione Aspetta, io provo a farla questa cosa che mi ha detto Io provo a farla Tanto non mi tosta nulla Per caso hai pietre Nell'inventario? Sì, ne ho quattro Allora cominciamo a farlo, per curiosità, perché voglio capire perché dove si fa una cosa del genere se non è utile questa qua, qua, mettiamolo, mettiamolo qua, sì, ma fa freddo, Gerry, dove vai? Sì, un attimo, un attimo, ok, quante cazzo di nocce ci servono? 34, 34, vabbabia, guarda che sono anche qua vicine, ma perché fiove, perché prima non faceva così, Eh sì, cazzo ho finito quasi l'alcol, mi è rimasta una bottiglia, io l'ho finito ancora, no, ne ho ancora una anch'io, sì, ma bevi l'acqua, perché cazzo bevi l'alcol? No, dico, l'ho finito per prima, non l'ho più trovata, Giro, ah, eh, l'avevamo trovata nella barca, dici che è spannata la roba, ma la zatta la sei riuscita a farla alla fine, sì, sì, è lì, ah, No, piccola roccia, dobbiamo cogliere le rocce grosse, cazzo Come cazzo funziona, non riesco a salirci? Eh, è pure una merda, è pure una merda, salirci puoi premere E, mi pare Addio, Gerry! Beh, l'ho messa dritto, dritto verso la barca, così, se arrivano Che cazzo? No, bastardo No, ma poi va a diventare variata quello schifo Cazzo, l'ho trovato, ma quanti cazzo mi posso portare? Di cosa? Di pietre, pochissime, cazzo Poche, poche Mancano otto Una Due Tre Questo gabbiano di merda, che cazzo ti metti qua a fare? Oh, oh! Sono strozzo No, Gerry, vieni a prenderle No, ne mancano tre Sono qua, Gerry, ce ne sono due qua Non ne stai venendo a prendere Manca uno, due, cazzo, tre, quattro, ne manca Fatto? Fatto Oh, oh, ci vengono a salvare fino a me il gioco Oh, oh, Gerry, Gerry Ci serve qualcosa che fa luce, assolutamente Io faccio fare a lui luce, cazzo Ma picchialo, Gerry, Gerry, dietro di te! Aspetta, ti sto imparicando, aspetta, aspetta Allontanati, allontanati due secondi Vai Brucia, strozzo Ti piace, eh, ti piace, dile che ti piace Oh, Gerry, l'altro Cazzo quanto leva Ah, ah, è ancora vivo Ma che cazzo Ma non, con un amore, Thor, non è morto Ma dai, stai scherzando Vabbè, son morto No! No! Dai, dai È impossibile così È impossibile Vabbè, no Voglio dire un po' di santa Di resto, di resto, Gerry, di resto Ok Fa culo nella zattera, Gerry Sì Cazzo Non sale, non sale Non funziona Ok, 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 ok Sono sopra, sono sopra Ok Vai, vai Vado via, cazzo Vado via, cazzo Portaci via, cazzo Ok, siamo andati via Rivango qui Sì, resta lì, resta lì Sì, ma io gli ho dato una molotov Eh, io l'ho massacrato Ma è ancora lì? Sono di merda Vaffancula, date via No, ma è eccessivo È eccessivo Troffi E vabbè Ti piangono le moletine, cazzo Ma posso incendiare questo? No Fortuna che non piove più, basta Non morivamo di freddo Ma guarda quanti Uno, due, due Qua lì c'è la torcia Aveva ragione, Richtal, guarda Qua lì c'è la torcia in testa Sì, e per quello volevo ucciderlo Volevo pigliare la torcia Porca puttana Posso fare un'altra molotov? No, l'ho bevuto Hai bevuto la molotov Cosa serve con la molotov? Provo a crearla anch'io È alcol E poi? Alcol, accendino Mi pare una stoffa Mica, ho visto Guarda No, 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 no L'ho fatta Cazzo, mi devo allontanare Stanno arrivando No, no, no Che cazzo sta allontanare? Ho quella molotov Torni Ma in acqua che gli fai? Ma tanto sono coglioni Non si buttano in acqua Sono stupidi Mi pare che lui è andato in acqua Ora ritorno Devo bruciare quello con la luce Aspetta E non fa andare più di così Ci provo allora No, deve aspettare si avvicina La sprechiamo Sì, no Si stanno andando via Quello stronzo Dov'è finita poi? Oh Non l'avevo più in inventario Ha buttato per terra Che cosa? C'è la Eve Dov'è che posso Ma cosa? Aspetta Vabbè Ma te devo lasciare stanzate Eh non lo so Tu l'avevi in mano Cazzo Non sembrava una molotov Ma o si fa una corsa Gli alanci e torni qui Ok dai Guardalo, guardalo Oddio, oddio, oddio Non ho capito Aiuto Lanciogli qualcosa Non è salito Non è salito Non è salito Ci hai ripensato No, 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 no Ma non nuotano comunque Hanno mentito No, no, no No, no, no Non è possibile Questo mi odia proprio Questo mi odia proprio Ma siete pazzi Ho capito Ma c'è una torcia quelli Che sono più tecnologici di noi Ciao, Edo Scusate, ho visto solo ora Che il gabbiano aspettava il coniglio Mi sto perdendo la chat Cazzo Ok dai che si allontana Quello Ok, vado Gernic, provo Vai Ah, mi sono ricoperto di sangue Ok È sparito No, è andato via No, no, no Ragazzi poi è trattata ruga quella no 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 ho detto che una torcia mi che il cibo che c'è il cibo cazzo non ho più cibo ma sto morendo di freddo gerry sta morendo di freddo letteralmente di fame dai da solo cazzo già riandiamo con l'ascia gli rompiamo il gioco puttano poterlo cosa all'ascia e chiaro piccato faccio un culo di vabbè mi ha ucciso no non ho stabilo dai passi magari io ti salvo ti salvo fermo fermo gerry non ti muoversi sono fermo cazzo non posso muovermi sono una torna nella zattera a che picchiata nel culo torna nella zattera cazzo non morire gerry sali ah gerry il freddo ah gerry il freddo mi ha ucciso alzami gerry aspetta alzami gerry non posso alzami non fa ok sto per morire ce la fa ce la fa ok cazzo riscaldaste con il tuo corpo vaffacula ce ne andiamo vaffacula dobbiamo vedere nella barca se se forse eri sparata roba no 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 andiamo verso il falò no no dopo lo riaccendi il falo gigante rital porca puttana se lo riaccendo ma non si muove gerry sta merda come si muove no ma vai devi andare verso di cliccare di continuo e andare verso la nave ma cosa devo cliccare di continuo no devi il tasso e lo faccio io aspetta dov'è clic sinistro dovevi fare ah ma il palo gerry il palo volevo accendere perchè la barca voglio vedere se hai risparato la roba aspetta ma non rispanda la barca sono ricoperto di sangue ok cazzo ah no appena l'alcol ho preso aspetta eh no quella è la roba che hai lasciato prima ma è cioccolata? c'era prima? ma te l'ho detto che c'erano le barrette lì te l'ho detto quindici volte cazzo ma se non l'avevi preso te io ma no non so le vedi anche tu queste cose qui gerry e allora è gg sono per tutte e due questo non siamo riusciti ad aprire comunque quale? eh la c'è una porta qui con una roba strana non capisco se una combinazione c'è una coca c'è una coca c'è una coca c'è una coca ma forse sto raccogliendo roba megan cross che cazzo ma le bombole d'acqua che cazzo serve? le bombole d'acqua che cazzo per andare sott'acqua? no secondo me sono a trovare tipo comunque mi pare che stia arrugginendo piano piano quel coso eh mi pare fosse pure integro prima ma il tastierino? eh non c'è da quella arruggino si ma arruggino è sangue non arruggino io me ne vado Gerry addio nooo vai ho perso sangue dal freddo berkabibi berkabibi benvenuto ho perso sangue dal freddo si è stato imbarazzante quella cosa lì eh ma non potrei mettere più vicina? no eh? aspetta l'hai metto io dai niente non ce la fa con una barca no 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 non la volevo mettere vicino ok ok no la metto io la metto io cazzo non voglio toccarla l'acqua ma mi riaccedere il falo cazzo sto per morire qui sono vivo per culo io eh ok oh l'acqua non c'è va bene ma in realtà sono messo bene si ma questo qui è un lupo infinito però se non se non riusciamo ad andare sotto come dobbiamo fare? più che altro non siamo riusciti ad ammazzarne manco uno ci facevamo le ossa invece cazzo eh ma perchè andiamo ora che il giorno abbiamo perso eh si no 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 andiamo a demora che il giorno che sono di meno eh si dobbiamo trovarli quei bastardi cazzo cazzo non mi ha dato un cazzo di fame ho mangiato un una tartaruga in terra ancora non ho ancora fame però lo trovo io non ho detto il mio cazzo guarda ah la trovo già finita l'acqua qui dai davvero quanti cazzo di raccoglitori dobbiamo fare qui è impossibile si il robo è questo però o sarebbe per allontanare perchè ora ci hanno fatto un attacco incredibile perchè è tutto spento madonna ci hanno devastato ma la carne mi hai mangiato ma stronze no era la mia l'ho messa ora io dove era la mia? ah ok è dietro guarda guarda secondo me dovete prima fare scorte e trappole per uccidere i neri eh ah 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 a ah 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 m ah ah probatizzando coh cazzo guarigli m ah Dove sei? Miche volei attorno le do salva- Eh, vabbè, son morto Nooo, fuck Vedi che facciamo schifo, Gerry Ahh, hey, hit, hit Ehhh, hey, hit Cugino Ma se puoi costruire una catapulta potrei anche fare un cazzo di credenza, no? Eh, hai ragione anche te! Eh, hai ragione anche te! Dov'è il mio zaino? Eh, sa dove sono loro ora? DPS More DPS Donna ma c'è mamma devastata perché avevo poca vita, sono stato stupido io non curarmi prima Ma respawna la roba sulla nave comunque, sull'aereo Davvero? Non è che non l'abbiamo guardato bene No no, due volte sono stato questo aereo cazzo Avevo un altro zaino là, avevo preso di basso Ma quanto alcol Tutto sto legname qui perché è qua, che è successo? Mi chiedi tutto, tutto cazzo, devi prendere tutto Cosa che mi indica? Che cazzo? Che cazzo fa? Ma che ha bevuto dal cesso? Ma che rimane? Che schifo, Jerry Ma che rimane? Ma che ne so io? Ma che schifo Ho capito Va bene, figlia, non ti preoccupare Ok Ce la faremo ragazzi, ce la faremo, cazzo No, Jerry, sono ancora qui tutti e due Eh, lo immaginavo, lo immaginavo Io però non accetto l'ho ritrovata Ora vediamo se possiamo ucciderli Jerry no Jerry no Aspetta, c'ho No, mi serve un tessuto Vado a fare la monotope Voglio prendere il mio zaino però Cimenti, non posso fare niente Cazzo, mi serviva del tessuto Ma sono ancora lì? Ma mica stronzi Lo dicono Ok Oh, oh Salve Passavo di qui Ma faccio alcun giro lontano, non c'è problema Faccio il giro lungo Ehi, Jerry Eh, non c'era una sulla mia destra così Ah, è quello lì che ho seminato io adesso Mi sto tendendo da poco a te Allora, io adesso ho di nuovo fame perché siamo morti, cazzo Jerry Che? Che è? Il farò gigante Che è successo? Non c'è più No, dai, no No, la carne carbonizzata Ah, ma non sai tu questo, Jerry Jerry, c'è uno che vuole Vuole farmi compagnia a cantar falò Ah, sta arrivando, cazzo, guarda C'ho ancora una roba per lui, dov'è? Eh, c'è anche la sua moglie Sì, 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 guarda, guarda Questa è l'ospitalità, vieni, guarda Ecco, arriva Guarda l'ospitalità italiana, vieni Sbagliato, cazzo Stai buttando giocapanna questo s*****o Oh, che cazzo fa? E' scemo Vabbè, ma è potentissima questa donna Jerry, restami, Jerry Cazzo, aspetta che devo fare una cosa No, Jerry, che c'è? Aspettami, mi muore il personaggio Sto provando, ma ce l'avevo in mano, cazzo Aspetta Dov'è la donna, per curiosità? Cazzo, eccola, dov'è No, è l'uovo, aspetta Dov'è cazzo è andata? Vaffanculo L'hai messato No dai, non l'ho preso Io avevo fame, comunque Spuntino, poi t'aiuto Ok Arrivo, Jerry Fattu' battempo questo s*****o Oh, pezzo di merda Dammi la gamba Dammi la gamba Oh Taglia il s*****o bastardo Oh, babbo che soddisfazione Ok Guarda, 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 ma anche la donna, cazzo Sì, sì, no quella s*****o l'ho ammazzato dove voglio Minchia, la voglio a rogo, cazzo Aiutami, Jerry Dov'è la proietta, dov'è? Beh, non lo so, era... Dov'è? Dov'è? Eh, lei è scappata, eh Il marito è morto, giustamente lei Torna da casa a pulire Dai! Torna, dai, cazzo Mezzo di verde Ma ok Uh, sì Guarda, ci hanno distrutto la capanna Ci hanno distrutto, cazzo Guarda che stronzi La capanna Quella grossa Che l'hanno distrutto Ma come l'hanno distrutto? Guarda, guarda che buco ha fatto Ha fatto una finestra, dai, va bene Ma cosa? Ma penso ci fosse già, o no? No, no Ti dava i colpi Sono venuto qui a salvarti Ti dava i colpi quella lì Beh, si potrà rifarla con legno qua, no? Sì, sì Ma dove sto cappiano lo uccido? Invece no No, Jerry E sì che fa, una volta uno deve rifarlo E non lo mette Dove è cappiano? Ah, qua, qua Stard Caccio Caccio Quante ne pensi che si per l'acqua? Caccio 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 Ma è durato di più questo Caccio 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 E c'è voluto un fottio di legno Quanto ce ne è voluto? In realtà non tantissimo Vedete No, cinque tronchi di legno Venti foglie Oh, lo rifaccio Aspetta, lo rifaccio Tanto abbiamo lì i tronchi Fran, sobri prima, romriself Ma che c***o bastono giusti giusti E anche lei needn e muoto venesto Caccio Non accendolo dato che non ci serve adesso No, di notte Ci sono le ossa? Sì, prendile. Ora mette il cibo Dove cazzo 3 e 4 ok comunque ogni tanto ritorniamo all'aereo perché ma no ma che fa uno lo sto qui pazziando quanti ne hai? cazzo non bastano gerry no dobbiamo trovare cosa per mettere gli oggetti minchia se vuoi mettere un colpo adesso non basta mettere gli oggetti perché ma giova detto che ti potevi fare tipo una cazzo ma giusti droga ciao nai quanto di sangue a terra mi chiamano a terra aspetta a terra a pezzo di merda che abbiano del cazzo mi caga anche in bocca ora guarda ahhh ma l'ho presa la carne ok ahhh ahhh io direi anche di salvare aspetta vado anche a salvare eeeh c ok gerry eccomi aspetta che mi hanno detto urgentemente di guardare whatsapp era per te che gli ho offeso la cover quale cover non ho cover cosa sta dicendo da quella parte non lo so cosa dice mi fa vedere questa cosa che diceva il gio perché lui sa le cose perché prima le parla che è successo no no non ti fidati di gio no cover non ti fidati di gio c'è piccolo armadio porta armi gg c'è tutta quella roba lì si c'è sto porta ossa e anche porta armature porta frecce puoi fare l'arco guardate che voglio tornare c'ho stavano i legnetti ma è cresciuta dell'erba qui o sbaglio c'era così tanta anche prima non mi ricordo si ma questa trappola di merda madò che fastidio madonna quanto fastidio non funzionano le trappole si stimme le trappole non funzionano chi scrive zero su pesce no vado a vedere le altre trappole che ho messo adesso cazzo è da due giorni che sono là se non hanno preso con i ghi più due giorni minchia se ci rimango male guardate i gomboni uccidere i tartarughe non è affatto una cosa buona ma moralmente o nel gioco però c'è da dire che non li ho più uccise i gomboni sto uccidendo gabbiani fermo lì fermo lì c'è? ma no ho preso il varano cazzo ho preso il merda di varano che tra l'altro era mezzo fuori perché è troppo grande per la gabbia che è tutto mancato in questo gioco ahhh dai vuoi la testa di varano no 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 l'altra trappola dove cazzo l'ho messa più in avanti mi pare sono pieno no che è questo rumore? pieno ma se voi mettete le trappole dei conigli e la spiaggia cosa vi aspettate? vabbè pensavo che arrivavano sì non pensavo fosse così precisa la cosa quella lì ha funzionato non ha preso un coniglio ma ha funzionato questa no l'altra ancora niente pappamia Jerry io do fuoco a questa foresta di merda no no andiamo di andiamo di c'è un amico nostro guizzare da solo cazzo dici? arrivo dov'è? vieni 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 aspetta che mi faccia la moto vieni 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 no 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 cazzo ho alzato un attimo l'inventario l'ho tolto ed è sparito ma come? eccolo 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 ancora qua è lì Jerry 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 qui dove? cazzo ho visto non scappare non scappare dove va? da me fugge lui ah sono invertiti i ruoli sono invertiti eh da me corre bene cazzo d'accordo no Jerry non posso prendere la corda prendila tu dov'è? l'ho perso qua qua no ma respawno io qui li avevo presi lì qui di prima eh sì vabbè tu pigliala è ancora lì Jerry? la corda ah me l'hai butta ah non hai spazio cazzo ma che fatte corde ho? si ma davvero sono scappati via quindi sono furbi non sono scemi era da solo e si è ritirato vincchia così tanto intelligente comunque siamo sempre lì ci mancano ancora tre conigli per quel merda di letto Jerry che palle fai una lancia Jerry dobbiamo prenderli dai in due aspetta 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 fammi intanto finire di fare quello per raccogliere le ossa perché almeno ce le possiamo fare tutte e due l'armatura e vedi le corde sono utilissime eh infatti io ne ho quattro ma più di quattro non me ne fa fare la manita muscaria non me la mangio cazzo non sono così ricoglione allora come si fanno le... che schifo come si fanno le... le lancia due bastoncini combina due bastoncini li ho... ho sbagliato tasto cazzo sono finiti no no c'è quel funghetto no e poi diventi super mario ok ora potrei farlo teoricamente fammi vedere che mi hanno scritto su whatsapp che mi hanno detto che è importante mi hanno rotto la playstation sbagliato non so già che mi hanno rotto la playstation no che ansia ok fa dire il danno che fa questo rispetto a lancia debole si ma fa un cazzo di danno fa almeno danno di tutti la lancia è più veloce ma ma dov'è lì? non lo vedo sulla mappa ah là ma perché ti trucchi così buttate la cazzo? non ho capito ma se non dai villaggio loro che con i... resisti jerry? liquid ma com'è il nome di jerry su twitch? lo volevo followare dopo dopo aspetta aspetta c'è uno davanti a te cazzo cazzo stavo guardando un whatsapp bastardi niente l'ho lasciato è scappato è qua sotto lo vedo? sei cazzo solo nel muro sei cazzo solo nel muro un coniglio? tu vado a destra e vado a sinistra dov'è? cazzo era qui eccolo 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 ma guarda se dobbiamo correre dietro un coniglio ma che cazzo sto vedendo no 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 cos'è? ma c'era stavolta qui? no avevo trovato un posto simile ma non è questo ma sta facendo buio o sbaglio? no c'è la pioggia c'è la pioggia dai c'è l'eccolo qui ma come cure dai due sono dai cozzo dai dai no fanculo la radice dell'albero che ho finito la stamina eh pure io grazie elettrograme per il follo no dai l'avevi sfiorato cazzo no ho finito la stamina non ce la faccio più cazzo eh aspetta riposiamoci dai sono gli esseri più veloci del mondo guarda lì ma loro non ce l'hanno una stamina che cazzo no sono come quelli delle spine che ho incontrato all'altra volta dai 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 no cazzo che ho preso? oh no cioè ne ho preso uno solo così è difficile cazzo preso no che cos'è? ma era un coniglio? no che cosa brutta che cosa brutta ho fatto? ce la faccio Jerry è uno scogliattolo Jerry non ce la faccio mi si bullano di me Jerry no ho ucciso uno scogliattolo ma dove sei? eri qua? ah sei là che cazzo sto vedendo liquid? cosa? vieni a vedere vieni verso di me sto seguendo i conigli Jerry beh è più importante del coniglio ok arrivo e cosa 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 è? ah è la voragine si l'ho vista che cazzo è successo qui? per me qui questo è Cernobil c'è il mio tool lì Jerry e io sono un ance per catturarlo cazzo mamma mia ma ci si può calare? Jerry aiutami con i conigli mamma ma ci sono una merda cazzo guarda lì cazzo c'è uno davanti a me e finisce la stamina dai sta facendo buio ora lì qui dai non puoi dire di no si ora si dai dobbiamo darceli via subito cazzo e il salto per arrivare quattro requ metto l'anello ma tu ho che paura ti puoi salvare anche qui e dormire anche qui dormiamo lì facciamo giorno no no speriamo moriamo di fame come? no no io ce l'ho a te non c'hai il cibo con te? no ah no c'è una barretta proviamo dai dormiamo qui proviamo dai allora morti cazzo guarda lì stiamo morendo bevo anche là come nuovo io no ora questi conigli di merda ma questo? questo che? cos'è? ok alcol cazzo vedi l'alcol cazzo lo prendo io ma dov'è? e l'ho preso vabbè ma serviva a me sto morendo di sete caro perché non l'hai preso e non l'avevo visto rocchilo come lo ma dai che bello tu cazzo e qui cosa? giari maspardo preso dai dai usciti il sangue dai vabbè ma che cazzo si volatilizzano cazzo cazzo se ti ammazzo porca puntata se ti ammazzo ecco lì ecco lì sono qui tutti e due ma come due due sono la spiaggia sono la spiaggia ma ce n'era uno qui preso preso ok uno ne mancano due gerry ma come mi hai detto uno ne mancava ma che cazzo dici uno ne ho preso ne sono quattro non ce la faremo mai che cazzo liquid abbiamo compagnia abbiamo due abbiamo tre compagnie si fottano il coniglio è più importante corri liquid corri 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 ma devi prendere il coniglio liquid 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 mutati d'acqua mutati d'acqua mutati d'acqua ma non si sta seguendo gerry sei sicuro si 4 gerry il coniglio qua dietro prendi prendi il coniglio ho capito ma c'è quello mi alzo non andare da lui sei bastardo ha preso paura anche il coniglio dai figlio di puttana dai mi fa paura questo liquid ma vogliono fare amicizia lasciarli stare no vogliono fare mi vogliono stupi buono che prendo il coniglio buono ma non spaventarlo ma non spaventarlo ma non spaventarlo c'è il mondo attorno non è che si vai accovacciato non ti vede scusa fai stella l'ho preso che culo ne manca uno dai guarda quanti l'abbiamo in culo no la donna no la donna no la donna no andiamo via andiamo via torniamo torniamo alla capanna andiamo ah guarda eravi dietro da che parte da che parte gerry verso lei verso lei no 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 di qua di qua facciamo il giro aspetta che mi metto un'arma decente se sta vicino cazzo se mi metto la moto mi do fuoco a questi stronzi cazzo ce la donna al culo ce la donna al culo ma è da solo sono andati via non è vero mai non è vero mai si stanno moltiplicando invece ma chi è la roba lì non lo so andiamo a vedere due ce n'è che cazzo dice che roba l'oro boh siamo con se la prendono a male se la gliela butto giù cazzo se gliela butto giù container c'è un container dove? c'è davanti a noi e a che loro ci sono lì c'è roba buona secondo me nel container cazzo se ci vado me ne frega niente guarda quanti container c'è ma dove li vedi? davanti a me ma non c'è un cazzo gerry ma stai scherzando c'è dei container ma ecco lì adesso sopparsi ma come adesso? c'è mi sa che hai messo la roba degli oggetti che si vedono più da lontano io non ho toccato nulla ho lasciato lì in posizione di base mi sa che devo no non le avevo ottimizzate con vivo no dai vuoti no che troll no dai non posso ma cazzo ci sono dei pacchi una lastra di vetro che cazzo l'or è un foglio di carico che cazzo non si rompe vediamo se questi qui si rompono e si qui per terra mica c'è roba dentro rompe di cazzo circuito stampato che cazzo posso fare? non ho mai rotto i coglioni tu basta cazzo mamma mia aspetta aspetta mamma mia la voglio fare non ho stamina gerry non è niente non è niente non è niente resti di me resti di me ma buttala vabbè ho capito per ogni volta li manca ma avessi cazzato chiudi il cupo del te chiudi il cupo del te no ma perché ha preso me vaffanculo gerry non morire che sono morto io cazzo grassami gerry stammi lontano eh ok parati comunque se ti pari non ti leva vita picchia picchia le tue civalve cazzo adesso dai ok ok è tornato giù è tornato giù giù cazzo mi fermi il culo no apriamo di tutte queste scatole allora sì ma io voglio le osse guarda componenti elettrici che ci do fanno questi componenti cazzo ma li posso combina con che cosa no batteria no ok monete sì le monete mi fanno fare qualche cosa altre monete no circuiti elettrici più monete che posso fare circuito stampato circuito stampato più monete mi sta facendo craftare qualche cosa poi è una stessa isolante sì alcol sì manca un pezzo soffa no cazzo manca resina no manca una cosa manca una cosa due di questi no io trovo solo circuiti circuiti monete nastro adesivo alcol qui posso fare un esplosivo a questo punto vediamo circuito monete nastro adesivo alcol non ce l'ho l'alcol cazzo e poi manca un oggetto e non è questo non è la limpa stoffa non è questo che cazzo può essere anche perché gli esplosivi mi pare servissero anche per far esplodere le zone della caverna e ma mi manca getto Joe mi manca un oggetto cosa può essere per far esplodere per fare esplosivo io pensavo in foglia no erano una idea perché ho messo tutto la bombole sicuro che l'alcol era indispensabile sì sì perché sennò l'avva andava via ah ok allora io non posso farlo a priori niente polvere da sparo eh no ma non c'ho la polvere da sparo batterie no vabbè niente io però sto volendo di fame dobbiamo tornare ma io ho trovato una lista dei passeggeri pure io che cazzo ah aspetta no le vuoi aprire tutte queste cose io ora me ne frega niente io non ne vedo più oh l'alcol minchia ce ne qui guarda cazzo ma sono ricoperto di sangue ma queste non c'erano sono spannate adesso ma che cazzo vabbè se sono con circuiti elettrici per ora ce n'è uno sott'acqua che cazzo può mancare no no col cazzo che vado a vedere non mi viene in mente cosa può manca un coniglio jerry ecco cosa fa no ma lo dicele qua dentro ma tanto danno tutti solita cosa il coniglio di est tutti circuiti apri i dati si fa andare di qua anche ma che sono quegli affari vicino all'acqua alcol circuiti monete orologio cazzo non orologio no no e dove cazzo lo troviamo un orologio dove c'erano dei morti alla area probabilmente qualche passeggero basta ho i circuiti pieni qua mi serve no trattare indietro se c'è da mangiare io sto per morire non ho barrette ho giusto l'alcol corri verso verso accampamento eccoti qua si ci sono jerry fa il culo i conigli c'hanno oh che è jerry jerry il coniglio dove è qua è lì è vicino al lucertolone è il boss finale cazzo il lucertolone vuoi ucciderlo pure che dà la pelle della lucertola che l'ho preso prima con la trappola ma è facile la prende va l'ho già preso cazzo dai me l'ho messo anche in ginocchioni non fa il rumore magari servirà prima o poi la pelle di lucertola ma io più anche quella dov'è jerry aspetta sono vicino sto andando a copacciato faccio un backstab aspetta aspetta che gli vado dall'altra parte dai ma come fa a vedermi non è vero da che parte è di qua davanti a me era dove cazzo è finito ora non lo vedo c'è la discesa eccolo eccolo una meridiana va bene lo stesso minchia se voglio una fionda come si fa la fionda Joe come si fa la fionda Joe come si fa jerry dai ma no se avessi avuto un pelo di stamina è bloccato no ma che cazzo sto vedendo preso è preso brevissimo prendo anche lei ormai ok ma io sono una pippa con la lancia ora lo so ah ma la puoi anche lanciare come? con clickdest guarda fa il simbolo del lancio no? cazzo cazzo saperlo prima fa fanculo come era è come the culling al massimo ti dico l'arco va bene anche l'arco va bene anche l'arco va bene anche l'arco vabbè è anche meglio sai al massimo ora il problema è capire dove la lancia però no torniamo verso il caso è difficile pigliarli però sto testando va 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 vedi cioè prima la punta dell'indice vediamo è perché si muove cazzo che strano i lanci si possono lanciare legna tessuto corda legno cazzo non è legno tessuto corda ma che legnettino ora facciamo solito una prova tessuto guarda qua quanto cibo questo va tutto a male se non lo cucino guarda qui c'è le valice l'ho fatto e le frecce eh sarà con legnettini penso qui c'è cibo liquido liquido viene per il cibo oh no oh oh era orologio questo nastro alcol e monete ma non me lo fa combina ce l'ho posso fare ancora una cosa con questo le frecce fattivose in a blind run mi ho dato bombe e frecce cinque piume o cinque foglie che cazzo è quello cinque piume sì che posso fare scusate dobbiamo uccidere tanti gabbiari seri e pigliare il tuo per fare le prezze comunque ci fa una bomba gg ma la pena di cibo qui dove c'è cibo non lo so era per terra aspetta andiamo questo qui c'è cibo eccolo eccolo ok ok va bene va bene meglio di nulla abbiamo anche una bomba se mi mette male la bomba la userei nelle caverne inizio poco prima di scendere la butti e poi scendi cazzo la buttai ai bambini cazzo assoluto io volevo tenete cazzo eeeh bambi c'è bambi ammazzalo cazzo eh preso figlio di p***na bambi ma è morto? non muore gerry ok è morto mamma mia ok brutta cosa squiglielo te perché vi siete un mostro cazzo meglio no cazzo me lo mangio che frudo sto cosa ti porto anche la testa cazzo me l'ha messo in camera si ma quante le serve di legnetti per fare l'arco un fottio ma le piume tante piume servono troppe gerry legno tessuto e corda ha detto no aspetto ho sbagliato allora legno corda tessuto eccolo questo te lo clipo cazzo sei un mostro ma vava moro sarebbe fiero allora c'è un altro bollino gerry gli amiti nel letto di gerry mentre dorme mamma mia che cazzo è cos'era quel rumore che rumore oddio gerry dove sei? non ti vedo ho trovato una caverna gerry minchia lancio la bomba cazzo ma non si passa è stretto no no puoi passarci puoi passarci eh dobbiamo mettere un indicatore si si doveva è stretto però minchia entro io ci butto una bomba e esco cazzo non puoi non ci passa la bomba è troppo stretto devi passarci prima tu no no dico eh si entro io ci butto una bomba e poi esco voi lo dico ah ok eh si minchia questi bambini quattro braccia li stupro cazzo allora ho lasciato un falò qua così ci avrò sempre l'indicatore del martello vicino alla caverna che ma quanti li lontano da me? fa proprio che spavetto cos'è c'era? eh sì il rumore l'ho sentito anch'io l'ho trovata per quello gerry dai andiamolo dopo andiamo dopo gerry torniamo prima a casa mi sta facendo un coraggio incredibile cazzo aspetta andiamo a casa prima abbiamo troppa roba per molte mori adesso mamma mia cioè dobbiamo far letto cazzo fammi far letto finalmente abbiamo la roba per il letto siamo uno di quelle troie gerry come? li conigi intendo ah ok ma quanto cazzo siamo lontani da casa? dov'è la casa? è qua è qua ah ok è imparicato no c'è ancora il qualcosa che vola piccchia però fa buio e ravvivo il cazzito si aspetta fammi salvare anche quindi adesso mi ha clipato guarda il demonio guarda guarda quindi resuscitiamo qui siamo sicuri? ti ho salvato anche speriamo ora mi cucino due robe accendi accendi c'è ancora c'è carne cruda c'è carne bruciata ma quanta merda bruciata abbiamo messo? assurdo ma perché non sta bruciata? allora fammi cucinà le gambe la sesta vabbè io lo sto vedendo e basta ora basta ma il mio cibo dovrebbe essere prima del corpo spero che non sbagli a mangiare cazzo non ci ho pensato che avevi messo il cibo cazzo ravviva così brucia prima dovrebbe essere il primo a uscire perché l'ho messo prima di te teoricamente ok l'ha fatto tutto insieme no jerry hai mangiato la gamba no 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 sicuro no no non sto soffrendo non sto soffrendo no jerry manca una gamba l'hai mangiata ma non sto soffrendo il mio personaggio ok magari ha una gamba buona prendi questo ah buono così cazzo prendi ha preso la carne me l'ha presa cazzo mi servono le piume di questi bastardi gg due ore a cacciare conigli per fare un letto che ti fanno voglia dormire per terra no si ma 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 sto gioco lo vedrai tutti i giorni in live chi è che l'ha detto io e che ci vede la disperazione cazzo vieni qui bastardo ok io sono fullato però ci converrebbe dormire per la notte e poi cosa sto vedendo cosa sto vedendo mi servono le piume ok scusa perché com'è il letto è brutto perché non l'ho mica visto ok possiamo ma questo è il letto non hai capito che quello era il letto ci hai salvato lì jerry che brutta cosa ma è brutto cazzo ok abbiamo le frecce come si fanno le frecce? cinque piume e un bastoncino io ho raccolto una piuma dov'è? si ma non esiste il mirino no e bah che di voleva anche il mirino voleva quella lì la piume voleva anche il mirino mamma mia jerry ah ok ah ok la piume la piume la piume la piume la piume ok io qui sto mettendo le mie ossa che poi vado a fare l'arbatura ma le fate dell'armatura? ah giusto le ossa devo piare nuvoli mai scoperto no per me hai mangiato una gamba jerry vabbè non ci si crede no non ho mangiato una gamba sto bene no l'hai mangiata jerry manca un osso cazzo no sto benissimo sto benissimo ma c'è ancora carne bruciata qui nel palo ma basta in questo gioco potete anche craftare le pistole dei pirati niente continuo a mangiare la carne bruciata non penso che si possa ma a parte non la frega fanculo mi mangia uno di quei conigli di merda posso fare qualche cosa con la bomba perché hai mangiato una delle mie gambe che bastardo mi serviva l'assassino divoratore di ossa cosa posso fare? no ma non bastano solo le ossa per fare l'armatura serve qualcos'altro ragazzi che cazzo ho fatto? serve la stoffa? si ok lo faccio così ma che sto facendo? cos'è? cos'è questa merda? ma che sto esplosivo fatto dov'è? ah armatura addosso ce l'ho ce l'ho se voi state usando i bastoni ce l'ho abbiamo una lancia aspetta gerry guardami c'è l'armatura l'ho indossato non la vedo ma vedo un osso che ti è spuntato dal braccio e basta e basta e basta pure io si vabbè è bruttissimo si vede dire pensate per un esoscheletro stile e grey crisis no la carne che si sta variando cazzo ne ho presa troppa per niente se si potesse portare in giro la carne cotta ma eh aspetta qui lo accendo l'incertezza perchè non voi arrivano ma e se dormiamo per passare la notte ma si dai aspetta che c'è un gabbiano ma vaffanculo ma non si capisce però cazzo è stato brutalissimo cazzo è passato davanti dormiamo dai avete una lancia fatta con le ossa no una lancia con il legno abbiamo vediamo z z oddio è passato davanti perché non sta dormendo non hai cliccato ho cliccato ok rifacciamo ho cliccato oh boh fammi vedere qua sto cazzo di video che mi hanno mandato eh sto amori cazzo aspetta fammi ma non è ma è notte liquid come è notte abbiamo saltato il giorno dai mi sono qua comunque per ora ma stiamo scherzando la lancia con legno mettici due tessuti e tre ossa caputata sto morendo cazzo mette vicino il fuoco ok mi stanno facendo vedere la mia ps4 ragazzi evviva 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 che cazzo oh che ci sia spilassare che cazzo che cazzo ci sta ok vado cucinare da mangiare oddio al mio cazzo di coniglio, manca il mio cazzo di coniglio ah no 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 lo mangio mangiato devo mangiarlo ancora ma c'è carne c'è carne cotta qui io mi devo mangiare la mia ora che ho messo due di tartaruga come abbiamo fatto a spostare la carne scusa ah no è la carne avariata del cazzo che ho buttato prima il mio è il coniglio lo vedi? ha la forma del coniglio, c'è il disegno del coniglio boh io ho mangiato tutto tartaruga sto mangiando boh c'ho ancora fame che cazzo chi ha che ha mangiato la carne che sta vomitando carne sbagliata l'hai mangiata tu mi sa no no fatevi un armadio e che ce ne fa nell'armadio? è vero si fatti la lancia di ossa com'hai fatto? comprendi la lancia che hai fatto di legno e ci devi mettere eeeh dove era? allora due di tessuto e tre di ossa fatto e craft all'insieme oh vai per vedere se fa più danno? penso proprio di sì cazzo cazzo fai danno anche più dell'accetta però quella che fa più danno è la mazza che ho preso da loro la mazza che ho preso da loro è quella che fa più danno incredibile cioè è gustuosa ma la posso combinare? on no 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 c'è una palla da tennis qui guarda che cazzo ho fatto? ahi posso dare fuoco cosa? che cazzo vuole? ma è scemo ma vai via basta l'ha schivata hai visto? mi sono spaventato tantissimo ma è da solo poi? ma cosa fa? che paura abbiamo le armi migliori stronzora stiamo con mica lo sto dando fuoco gli sto dando guardami continua a colpirlo continua a colpirlo che urlo nell'orecchio pezzo di merda mi sono spaventato troppo e viva altre ossa voglio fare l'inventario e c'era lui oh ce n'è un altro dov'è? posso riturlare ah no forse ero io oh beh niente sto cambiando di merda mamma che paura si mette cibo nell'armadio l'ha già cucinato guarda già pronto per mangiare l'ho già incendiato che era alien era gigantesco dal mio prospettivo c'era l'alcol nel bagaglio me l'avevamo già guardato le spannano le cose ok ho bevuto che devo fare niente o si va a dormire a sto giro veramente ma ancora ma vaffanculo perché prendo fuoco se non lo tocco il fuoco volevo bruciare il corpo di quello strozzo io lo vedo ancora che prende fuoco è sempre così no si è spento ma qui se metti il tessuto con questo qui però lo posso usare solo una volta che può avviare ok mi hai fatta l'armatura tu Gerry no perché mi passano le ossa cazzo te le darei io se si potesse ma ho messo il deposito per le ossa lì qui qui ah to si quanti sono? due se vuoi ne faccio altre ne ho altre quattro da fare quanti ne servo non mi ricordo otto e due stop eh no solo quelli due ho solo vabbè mica quest'armela mi avevo stuporato no ma è finita la notte guarda non occorre che dormiamo ok allora andiamo ma perché io ti vedo con le gambe sotto la sabbia? perché sei un nano ora liquid? ah ok no niente guarda sta sprofondando ma anche tu e tu no guarda sta sprofondando liquid ah no anche tu un pochino io un pochino se hai le ginocchia sottoterra cazzo niente si probabilmente si potrà incendiare questo qui che c'è in mano si può incendiare e probabilmente anche altre armi aiuto non voglio sprofondare vabbè da non sappiamo obbè dai proviamo ad andare a vedere ma stai che finisco le ossa sto appunto per chiedere se sei un nano la lancia dici vediamo la lancia è fortissima cazzo gli abbiamo fatto il culo a quello lì l'ho mancato quando l'ho lanciata però volevo vedere quanto danno gli faceva eh mi serve alcol però probabilmente si però perché vai mi fa mettere questo ma questo squalo di merda si probabilmente si può si può giù però mi serve alcol ma lo stai mettendo via sto accendino no ma l'ha fatto allora devo averla di pietra quando vuoi possiamo andare andiamo vai dove era quello lì a giallo si ah tu vuoi darle la caverna cazzo prova a mettere la bomba ma che bomba entriamo non è detto che sia come la cave che ho trovato non fare follia cazzo non essere folle guarda che bene che si rompono adesso una rana ho sentito bastardo cazzo un po' riferire dei liquidi da lasciare la lancia cazzo lasciamo schifo ma il mio si è confincato qua cazzo vaffancona ok vado prima io vai vai no non crashare non crashare cazzo sta crashando ok ho paura gerry guardati ovunque non lo so hard se si può incendiare se tu già urli cazzo non ti spegni è l'accendino di merda c'è un braccio gerry tante braccia ma ci stai indicando dove andare liquidi ma ora ci indicano di tornare indietro allora un rametto una cassa stop chi è che ride? nessuno liquidi stanno ridendo? no 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 gerry no stanno ridendo liquidi ma se puoi stare in su di qua guarda no stiamo dove eravamo prima che dici? un accampamento? che è? cos'è un fanò quello? che cazzo che cazzo guarda puoi stare in su guarda c'è la corda guarda no non è lo stesso posto è molto più distante verso di là ce ne è uno gerry ce ne è uno oh boh via mi sono caccato per il fu ce ne è uno gerry liquidi ce ne saranno tanti sono quelli scarsi però cazzo cazzo ma puttana ho missato jerry resisti che sto cambiando arma ok che mazzata che gli ho tirato cazzo sono due no uno è morto jerry jerry sto morendo jerry sto morendo anch'io non ti posso rissare dove cazzo ok ora mi è venuto se mi sfiorano muoio ma non ti ho rissato? si si ah non ti vedevo no sta crashando ok no non vedo un cazzo jerry dov'è la mia lancia? ah ma li hai ammazzati ok gg si vedebbe infinito perché li vedono se mi vedrebbe bick ma babbia questo che cazzo è questo era uno dell'aereo è venuto qui sotto è stata un'idea intelligentissima ah no l'hanno portato qui secondo me ah che cazzo è? dove due? oh no ti spegnere mai più ci sono altri circuiti soldi sono ricco gerry ma lì qui c'è dimmi c'è una recensione pieno di circuiti stampati ah si è spento non ti spegnere no dove conduce questa strada lì qui ma gary ma dove stai andando ma stiamo vicini è pieno di roba qua lutta cazzo ma dove sei? è lì ho perso un sentiero cazzo ho perso pieno di soldi eh quindi ci aiuteranno questi soldi circuito cibo l'h per capelli oh ho preso qualcosa c'è un tesoro qui gerry vieni a prendere c'è un oggetto chiave mi sa per la terrama qui preso che cos'è? è un eh? è un cattolo il coniglio è andato a male che cazzo ne so un giocattolo ma ho aperto una zona dove si può andare mi sa adesso andiamo gerry ma queste appesi mica c'è l'orologio questa grazie anche quello grazie 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 per l'orologio grazie ah vucun prano sono queste scusate scusate che sto vedendo cazzo io mi giro quelle frutte le ho viste lo stanno cadendo soldi guarda quanti soldi grazie cazzo posso fare bombe ripetizione ora forse i segni si vedi sono loro che li portano qui cazzo potrebbe essere rictal questi ti ammazzano ti portano qui e ti attaccano ti attaccano al muro guarda qui 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 io ho aperto questa staccionata guarda cosa sto facendo sto cercando di rompere roba andiamo jerry bobo più quanto è stretto qua liquido non puoi capire sono dietro di te non ti preoccupare cos'è quello? no 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 ride ride qualcuno ride c'è un cappellino non lo prende jerry cazzo che botta che m'ha dato eh vabbè ma è rolla cazzo fai pass roll no due aia aia che rombo mi sta tirando cazzo ma sto morendo dov'era stata non la vedo sono morto sono morto ma perché io non duro un cazzo c'ho anche l'armatura cazzo cazzo aspetta cioè io ho due colpi e vado giù ma che è? non vedo dai BIC salva BIC capito dove sei cazzo lì qui? dove ero prima? no toccatemi ti ho ristato ma ora muoio muoio io sono morto sì ma sono morto subito dopo cazzo avevo il mondo della roba là dentro beh dobbiamo tornarci sperando che non ce ne siano altri puttana cazzo no gli arriviamo troppo poco ma perché l'aereo? ma non abbiamo salvato io l'ho salvato sì ma abbiamo letto ci hanno detto che rispondavamo lì ci avete mentito ragazzi lo sapevo che mentivate cazzo e non nemmeno ne accetta come cazzo c'è andiamoli? andiamo lì e basta ci penseremo dopo come andiamo lì e basta? eh dobbiamo recuperare la nostra roba giocattolo rotto? non possiamo lasciar lì dove sei? ho perso lì qui dove sei? non posso tirare pugni aspetta trova un sasso trova un sasso almeno facciamo la lancia quella debole in ggwp sì ma ci avete mentito però quella storia dei letti ragazzi siete dei bastardi chi è che è lancio cazzo cazzo voglio fare i nomi ci avevano detto che ci avevano detto che se facevamo letto lo spondavamo lì ci abbiamo messo un trequartin'ora a fare quel merda di letto tutto per niente come si faceva la lancia? due legnetti prendi un sasso rompi due legnetti e fai la lancia qui va già subito cazzo con l'alt f4 sempre sul pezzo harta bravo chiunque sia stato maledetto agostino era lui? no 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 è arrivato poco fa no appunto mi sembrava strano Joe? Joe lo doveva sapere cazzo e vi è uno di qui vai via pezzo di merda ok sono spaventato ha visto che siamo in due e scappato neanche Joe lo sapeva che cazzo lo sapeva non è che se moriamo è come dark souls che perdiamo anche la roba lì no no l'ho preso e ma ancora vivo ma basta vai via e muori cristo un'altra arriva la donna liquida arriva la donna o sti cazzi lui è morto vaffanculo vai via puttana che fai culo va bene ora perchè c'hai due tette dai su aia aia madonna che mazzate che m'ha dato ok blocca il blocco del liquido bravissimo no non posso morire ora ho troppe cose da fare come sei morto è difficilissimo abbiamo messo difficile abbiamo messo difficile si dovevi mettere cazzo europeanisi dovevi mettere cazzo porca puttana gli lancio il varano adesso ma dov'è il nostro tesca laggiù io spero che non ci riporta la morte di ora ci riporta ad entrambe però non credo che la nostra roba rimarrà lì in eterno dobbiamo recuperarla subito eh allora andiamo chissà da se il multi è diverso dal single non penso deve essere uguali le meccaniche no 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 è uguale è uguale il penale suscitati davanti all'aereo dai sì ma non posso avere tutta questa vita cioè no no è la vita normale che c'erano così è difficile ok vabbè allora quello dopo che cos'è allora madonna non voglio immaginare eh soprattutto qui l'accampamento però non c'ho non c'era cibo qui eh aveva ragione Rick talcazzo devo farci un contenitore per il cibo ma tanto se non puoi non se non puoi mettere la carne cotta che cazzo ti serve fare l'acquiritore per il cibo come non puoi fare la carne cotta dai cazzo veramente cosa c'è eh chi c'è c'è lo strozzo al culo un altro ma do ma quello più forte pure ti chiudi Jerry cazzo Jerry mi aiuto aspetta fai perdere la lancia ok è una merda cazzo si uccidono di cosa ci ammazza questo ci ammazza ma sempre così sempre così che palle arriva Jerry e se ti sta camperando sto pezzo di me vabbè ok ti sto lessando ok arriva 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 ho capito non sono appena nato aspetta fai perdere la lancia arriva 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 dove non mi ha andato la lancia ah gliel'hai tirata picchiano Jerry pronzo pronzo mi devi cacare mi devi come un kebab ti faccio diventare con la lancia più debole del gioco ci vorranno 70 colpi cazzo senza cipolla cazzo senza cipolla del culo della infilo mi sta piacendo mi sta piacendo guarda aia 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 aiai aia aiaa scappa Jerry scappa che risso cazzo restami Jerry ma te tu si uccide ora strozzo dove vai dove vai si si rimani lì vabbè ti faccio di be**a ma dove cazzo è la mia lancia ah aspetta aia porca puttana ero nell'inventare Niente, l'ho ucciso! L'ho ucciso, Gerry! L'ho preso! Gli ho lanciato la lancia! I cicatri di Skydi sono degli agnelli in cofro, vicchia! Oh... Pezzo di merda! Vicchia, se non mangio terro! Smembriamo questo bastardo! So di... merda! Ho rotto il culo! Ma hai preso la mazza! Cazzo, se te l'ho presa! Sì, te la sta! Fanculo, non si... Ma ti smembri, sì? Non si smembra! Ma come lo s... Non si smembra! Cazzo, è duro! È duro anche da morto, sto bastardo! Vaffanculo! Dai! Roppi il braccio! Niente! Ma si stacca un cazzo, Gerry! Vaffanculo, andiamo più la nostra roba! Si fottami il pezzo di merda! Mamma mia! È duro anche da morto! Basta, Glipper, no! Lì quindi ha messo la lancia in culo! Si è fermato! La supposta gli ha fatto, cazzo! No, è bello che gli ho lanciato la lancia, ma non si è attaccata! Ti ha tipo dato una botta, però è morto lo stesso! Come facciamo adesso a recuperare quella roba? È merda! È merda perché siamo andati anche oltre noi! E non è solo là sotto! Non sappiamo se li abbiamo anche davanti, ma forse li sono rimasti morti! Cazzo! Mi spavento sempre! Dai che è giù! Ah ma c'è luce! No, col cazzo! Era tutta una menzogna! Mi stava crashato! Qua crasha sempre! Ok! Ok tanto qui nel primo pezzo non c'era niente! Che poi sono affamato, assetato, cazzo! Ho tutto! Forse non ci sono, Derry! Ma non ne sono qui, loro sono più avanti! Ah ok! Ecco! Ecco! Ho visto cosa muovere si dava! Ah no! Sono le carrelli casse che si riposita! Sì sì! Si sta buggando tutto! Dai 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 non ci sono già! Entra, entra! Prendo una roba e torno indietro, cazzo! Eccoli! Oh cazzo! Presa! Arrivano! Via, 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 via! Non trovo più, cazzo! Non riesco, non riesco! Come riesci? No, che che non torniamo più? Le mazziamo, cazzo! Allora, piglio la bomba! Mi sono rotto i coglioni! Madonna, sì! Fammi mangiare la roba! Cazzo, dov'è questo strozzo? Ok, pezzo di merda! Fammi pigli anche la medicina! Ok, adesso li ammazziamo, sti strozzi! Un' medicina e merda! Eh, io ne avevo una, l'ho usata! C'ho anche la latte! L'alcol! Non ho cibo nulla, minchia! Ti ammazzo, dov'è questo strozzo? Ma lo posso posizionare? Mi ha detto C, dove? Arrivano! Levati, levati! Levati, levati il liquido! Non so se esplode! L'hai preso? Boh! L'hai preso il mio orecchio, di sicuro! Micchia! No, è qui! No, no, no! Cazzo, non lo sta! Rolla! Rolla il bastardo! Rolla! E non lo sta! Via torno indietro! Ok, dai! Arriva l'altro! Micchia se sto morendo! Dai via, bastardo! No! Jerry! Mi ha sciottato?! Scappa, Jerry, scappa! È morto uno! È morto uno! Ti risso! Quello che abbiamo menato tre ore è morto, cazzo! Cazzo, no! No, 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 no! Ok! Ahia! È qui, è qui, è qui! Eh, lagga! Lagga! Ok! Ma no! Non laggare! No! Ok! Cazzo, che botta! No! Dai, non rollare! Ma perché attacca giù?! Ma basta prendere me! Niente! Ti ha chillato? Sì, ma sono lì! Sono lì! Puoi salvarla lì! Dovrei bloccarlo! Non credo possa passare! Comunque non ho più la lancia! Gliel'ho tirata! Ma l'ho mancato! Cazzo! Ho sboccatato Civil and Medic dieci volte! Mi dice! No! Comunque è credibile! Mi ha sciottato! Avevo un casino di vita! Ragazzi! Bic! Bic! Ok! Ma io che cazzo faccio con la lancia? Debole! No! Non l'ho presa! Aspetta! Voglio la mia lancia! Ok! L'ho presa! Attaccami! Dai! Da solo! Cazzo! Muori! Bastardo! Schifoso! Madò! Ma ha pure attaccato prima di morire! Minchia! Devo trovare subito cibo, cure, tutto! Stoffa! Che cazzo ci devo fare con la stoffa, cazzo? Devo trovare cibo! Sto a morire! Io poi fortuna li avevo! Fortuna li avevo nello zaino che abbiamo recuperato! Nooo! Puoi andare ancora più in basso! Ma te sei scherzando! Ti stai scherzando! Nooo! Ragazzi! Dobbiamo cambiare il punto di respawn però! Se qualcuno lo sa ce lo dica per l'amor di dio! Non voglio ritornare all'aereo se muoio! Su! Qualcuno indaghi! Qualcuno ci aiuti! C'è dell'alcol ma non ti serve da bere! Nooo! E' il fame che mi manca! Ma di solito ci sono delle merendine, cazzo! Ehm... Vediamo trovare le valigie! Lugale, c'è un'altra zona dove puoi andare anche qui! IL FLARE?! Cazzo prendi la torcia! Merendine! C'è la merendina, prendila! Ho preso, ho preso! Ah, prendi il benestario, cazzo! Dinamite?! No, no, dove si sia FLARE! Ah, vengala! 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 No, no, un'aranadina, mi pecazzo! Sì? Si, sono abbastanza sicuro! Vengala, mi dice! Io c'ho un vengala! Allora, o si prosegue qui, lungo questa... Staccio! Ah, no! C'è niente! Che schifo! ma c'è gli organi è bellissimo salvati insieme e quando morirete risponate dove l'avete salvato però non ha funzionato l'abbiamo fatto allora niente dobbiamo scendere liquid forse posso fare un'altra bomba allora mi serviva circuito nastro adesivo no dobbiamo creare l'armadio e metter giù un po' di roba però io c'ho troppa roba non posso andare avanti tutta sta roba cazzo cos'è che mi serviva? monetine ma stai ancora con l'accendino hai la torcia a birra no no no, devi caricare con la torcia vabbè c'è la batteria dimmi che finita la batteria ne abbiamo tante dai cosa che mi manca giù gioco che mi manca aspetta andare giù aspetta no voglio vedere velocemente se come prima non ci scendo io mi manca una cosa che non mi sta venendo in mente orologio l'ho messo circuito nastro adesivo monete alcol vuoi sapere cosa c'è scendendo Gerry? cosa c'è? da scendere ancora di più stai schizzando? dove stai? nooo sto scendendo eh io sto facendo la seconda corda vabbè dove stai finendo in giappone cazzo cazzo io speravo di trovare un'altra uscita nooo qua Gerry stiamo andando al centro della terra altro che cazzo picchia troviamo le robe incredibili non potete sparare dove volete i sviluppatori non hanno diventato fa un cui sei di multiplayer ah con multiplayer ok allora va bene esiste solo il single player vabbè non si può pazienza il bengala che dove fa il bengala c'è un crocifisso Gerry ah dici di mettermi il bengala ma che effetto strano fa l'acqua fighissimo prendi il crocifisso Gerry è un oggetto chiave dov'è il crocifisso? la parta oh mi sa che servono per finire il gioco sti oggetti è bellissimo micchio che cazzo è perchè è messo così autorespiratore per andare in acqua e ho trovato anche qualcosa del genere ah guarda indossa ah perchè puoi andare sott'acqua? lascia micchia che figo è penso che questo sia il momento in cui torniamo indietro però Gerry perchè? non lo so non voglio morire abbiamo troppa roba nello zaino andiamo verso la luce l'ossigeno ce n'è parecchio allora non possono essere sott'acqua dai onestamente gli squali no no veramente come survival è uno dei migliori acqua ho cazzo il freddo eh sali subito sali subito oh no Gerry ci sono quei cosi che avevo visto dell'altra volta e saltano ok muoiono con un colpo ma che schifo uguale gli ha uccisi Gerry gli ha uccisi che... oh c'è cibo che cibo non mi serve dobbiamo fare un falò per scaldarci se no moriamo Gerry il falò il falò il falò aspetta 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 come si metti il falò? intanto fammi un attimo bere e mangiare hein allora falò falò... ecco l' NOT benefici ma non so se abbiamo viva una roba tanta cazzata coccolata e la vita non mi manca una mia perchè posso compilare che ciò cazzo? ehm medicine non ne ho manco per me tutta la carne da pammare comunque se tutto canto no mi è rimasto una una ne è rimasto so pieno di alcol pieno di merendine teschi pelle di lucera subnautica non l'ho mai provato no subnautica non mi piasa troppo palloso secondo me subnautica io personalmente sarei ordate di indigeni con po' della vita rispetto a uno che muore dopo due anni ma forse perchè mi hanno messo la difficoltà più alta sì sicuramente magari vanno giù prima siamo sicuri che non c'è un posto dove salvare qui no penso guardanti bengala alcol dinamite ecco la vedi ma perché bengala non è un bengala è un attiazzo di candelotto di dinamite vabbè dobbiamo tornare in acqua guardanti bengala mi sai si eh si e dove proseguire lì a destra? noi veniamo da sinistra no noi veniamo da lì no? no 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 oh si no no noi veniamo da sinistra noi siamo venuti a destra noi magari siamo venuti a sinistra sono abbastanza sicuro che siamo venuti da destra io no berda cazzo quello che ha scritto già nella mia chat mi ha inquietato tantissimo il problema è che quelli sono scarsi ancora non hanno visto gli abomini cazzo no non lo voglio vedere voglio vedere cosa droppano qui così che ho ammazzato però spami vedi? ah perché dicevi troppo no? no non droppano ok provo ad andare a destra io allora ah ti seguo è meglio stare insieme cazzo no no non siamo venuti da qua jerry no? no no qui si sale ma non c'è un cazzo però buio 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 accendi cazzo accendi accendi ok come non c'è un cazzo ma no si va ancora più sotto jerry ma perchè cazzo si vede sfocato? e se non si vede sfocato non mi ha la vita perchè non ha gli occhiali siete venuti da sinistra dice jennifer guarda perchè non ha gli occhiali dai raggio come perchè non ha gli occhiali per gli occhiali per si si siamo venuti dalla jerry torna indietro cazzo gli occhiali per immergersi cazzo grazie jennifer stiamo morendo di freddo dobbiamo tornare al falò cazzo aveva ragione jerry quindi cazzo no sto morendo jerry eh si siamo in due non è nemmeno abbastanza stamina cazzo non vedo il falò ci è spento? no 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 c'è c'è dov'è? tu puoi essere andato via dai si ma qua non abbiamo fatto mica tutta strada su tacco si si cazzo eccolo lì ok ok raiden mi sono perso la raiden di ieri ieri cosa ho streamato ieri vieni jerry vieni non mi ricordo cosa ho streamato ieri raiden ah era più liga in dopocena il pomeriggio ero che a dark souls ho fatto dark souls ho fatto devo fare i dia contaccare una variata qui cazzo che schifo ma che cazzo è stato c'è i lucertoloni non fanno tanto mangiarli quando io mi vengo senza maschera non vedo così sfocato ah vedi vedi rictal sono quattro ore che non bevi ti muoio nei raiden non posso portare più il codice cazzo le bevo uno allora eh riscaldano anche teoricamente minchia ok andiamo jerry sei pronto mamma mia non voglio cazzo cazzo comunque hanno fatto un lavoro non è della moda che questo gioco non era giocabile ora ma do forse uno dei pochi early access che ho dove cazzo siamo ma che cazzo è non lo so però non stiamo neanche morendo di freddo a sto giro invece si cazzo dobbiamo fare un altro falò 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 cos'è sta cosa? nooo cosa stai toccando jerry? oh mio dio jerry non toccare jerry non toccare jerry non toccare roba ho aperto la porta è figlissima questa cosa ma è soprannaturale oh mio dio oh mio dio dopo me lo compro la giocatore se lo compra l'ha intrimpata ora si è persa la sagra della canzone apolitario su qui sul minchia veramente le porte dentate di agoni nooo nooo quel gioco non lo voglio fare cazzo c'è le strati sul tetto ma non vedo altro ho fatto un lancio magistrale cazzo beh io voglio ma non ci passo siete sempre così divertenti solo quando ci cacchiamo in mano no 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 ma sono venuto qua per niente cazzo io ne lancio un altro c'è gente? non si sa mai no l'ho lanciato senza accenderla cazzo c'è un tracca mica c'è delle tende a sinistra oh possiamo salvare possiamo salvare ma che indicano? dici? invece l'or no aspetta l'or una bibbia? una bibbia due bibbie ah qui c'è delle casse da aprire benzina e io mi do fuoco oh c'è già un falò qui già fatto solo tessuto c'è ancora lo prendo volentieri mica quanta corda bombole guarda questo? guarda qui Gerry cosa? bibite da tutt'andare perchè ci stanno andando troppa roba io se se la cosa mi ha insegnato i videogiochi che tutta questa roba ti porta alla morte dove stiamo andando cazzo non voglio fare agoni perchè ho paura degli horror semplicemente ascia arrugginita? c'altra lor qui Gerry dove? c'è gente con sei gambe eh proprio prima io si è bruttissimo fate non ho detto nulla perchè non volevo ahah ascia arrugginita ma che cazzo è quella cosa lì scusa? perchè lo stanno indicando? cosa stanno venerando loro? guarda liquid guarda questi scheletri sono tutti prostrati verso questa roba ma è una schiazza sul muro non ha senso quel disegno ma dove si va quindi da qua? se non si emergisi ancora perchè c'è andato delle bombe come cazzo facciamo a tornare indietro dopo? non si torna indietro si possono andare avanti si finisce il gioco eh 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 si alla sotto c'è roba qua ok andiamo è un gioco muo' e agoni non mi pare 2 1 via non esisteva questa caladena in versione di rilassi non si poteva fare nulla su quell'altro ma bisogna andare a fondo? penso di sì no non si vede un cazzo è un dono del cielo non lo so eh Jerry non si vede un cazzo no 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 vedi è tutto buio il freddo cazzo eh non so ormai bisogna andare devo accendere il falò appena saliamo una corda si si torna alla superficie boh un po mi ho ritrippato un po mi dispiace l'estamente ma ce ne saranno sicuramente tantissime altre molto strana sta cosa praise the cave ok io vado vai vai madonna inquietantissimo quella cosa che loro stavano venerando abbiamo paura ragazzi ma quello lì con ste gambe è la seconda volta che vedo quella foto comunque ne ho trovato una anche in superficie ah si? non capisco che cazzo vuol dire c'è allora lo più interessante questo gioco è che è l'artorso 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 come si è quella x in quell'accampamento perchè? mmmh sarà tipo cazzo al tesoro? oh mio dio ah il dracqua ma come è fatta sta caverna? non ha senso strutturalmente non ha senso vai 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 che cazzo mi ha toccato il braccio? ma chi ti deve toccato? c'è nulla qua non lo so bisogna scavare la? può essere? non so nemmeno che l'accampamento non l'ho nemmeno mai visto non è quello che abbiamo cazzo una metà dell'ossigeno eh tra poco anch'io se hai bagnato ai freddo accende un fuoco per asciugarti e vabbè ne accendo sott'acqua che c'è spongebob noia ma ancora oddio qua si si preme e si 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 infiltra Gerry cazzo sali 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 sto salendo Gerry non mi crashare però gioco cosa? che c'è? oddio il lago chi è? il lago il lago? no però è un lago ah quanto siamo lontani dal nostro accampamento? eh verso di là non so quanto ma che c'è? gabbie eh? chi l'ha messo? un cervo fa il culo mio dio cioè siamo tornati in super ma come avendo sceso molto di più siamo scesi? come come cazzo lo tolgo il respiratore però adesso scusa ah va sta andare nell'inventario penso rimuovi apposto ok no non è possibile che siamo tornati cioè siamo scesi due ore e mezzo cazzo è stato bellissimo cazzo sta anche per far notte sta anche per far cazzo ma mi sa che sei molto più sicuro dentro le caverne di notte eh scusa eh come che non possono mica entrarli ah dici da sotto sotto? no ma anche all'entrata della caverna per esempio ci facciamo una capanna lì? eh 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 tipo intorno a loro cazzo eh ma ti non ho idea dove ci sono i cadaveri appesi? è già tutto arretato bello bello cazzo si qua siamo passati perché è tutto aperto dove cazzo è l'accappamento? beh sono andati sicuramente avanti con l'atterrama scendendo lì oh no ciao critical ciao DAV riecco mi stai hai perso la luce divina cazzo non fa più luce ragazzi vabbè le va le va l'accendino infinito andate a salvare Timmy dov'è Timmy? ma perché non l'ha ucciso Timmy più che altro? è stranissima questa cosa ecco l'accampamento è lui è il loro dio devono venerarlo oh mio dio l'allora è la cosa importante no? comunque Jerry quando avrai finito questo gioco ti verrà voglia di bruciare i giochi ma perché? oh mio dio io so che il finale è deludente dai no si io so questo non so però in che modo perché ah io ho salvato che tanto mi fermo sono le 7 e un quarto cazzo se salviamo io prima di chiudere fare tipo un armadietto mettere tutta la nostra roba armadietto? come si fa la roba? l'avevi trovato tu prima hai detto che era un armadio piccolo l'arredi sarà tavolino no 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 caminetto tavolino poltrona cassetta per gli uccelli c'è della roba così stupida da fare otto scina no magazzino sarà piccolo armadio e armadio grande dov'è dov'è? eeeh a magazzino vabbè tanto vuole fare armadio grande otto tronchi di legno eccolo qua otto tronchi dai si può fare dai lo metto qua ma lo mettiamo dentro la casa che cazzo lo metti fuori scusa eh niente che cazzo ma ci può mettere la roba dentro? sii io voglia posto otto tronchi ci stiamo fuori ci stavete c'ho laccetta per gli alberi adesso gg avete finito il dungeon o siete morti? è andato nel bagno? no no siamo usciti siamo usciti siamo risbucati in un lago non quello che avevamo trovato però era un lago micchia potremmo portare il carretto vabbè otto tronchi vuol dire qua ne ho già quattro paio di viaggi ah micchia ah ho tagliato un altro ah ho fitto la stabile che palle ma secondo me abbiamo sbagliato c'era una diagramazione per continuare la sotto sono sicuro dici? sono sicurissimo che potevi andare ancora oltre hm dovevamo vabbè qua dove cadere con calma non lo so potremmo anche ripassare sempre da quell'ingresso tanto il segnale è sempre lì ci ho messo ancora quel falò e stanno ok presi i tronchi dai ok quanti te ne mancano Jerry 4 ora 2 qui c'erano anche per terra i tronchi non so dove cazzo ma quanto cazzo stanno scrivendo su telegram mi fa cambiare se accetto se taglia più velocemente no come cazzo ah ok ma taglia strano taglia ma io non ho hai segnato un albero per fare due ripiani ah c'ho il cervo è vero che culo il cervo è vero che culo il cervo ha malato 4 bistecche mamma mia i min in rust i figliati avevano carane di cervo era bellissimo cosa si com'è possibile mi chiede rust veramente mi ha giocato tantissimi e detto ma proprio tanto tanto cazzo no io purtroppo non avevo nessuno con cui giocarci eras da solo ti annoi ma se sei in gruppo a raidare le case tu ti diverti se me lo faceva all'inizio madonna se lo faceva era cattivissimo ha fatto anche le 24 ore cazzo madonna vai finito porto due tronchi anche di puoi appoggiare le lattine solo e io vedo quel segno vedi eh si in basso pure puoi appoggiare 5 lattine al ripiano tranne che quello in basso quindi sono 5 e 10 15 ma no premi c ah no non è vero ah no r r premi r ah micchia gg ne devo fare tanti di questi il cibo allora possiamo mettere ok alcol bevute cioccolata vabbè i consumabili praticamente in modo che se noi moriamo e troviamo la roba qui eh gg eh è salvo anche cazzo se è salvo ma sicuramente c'è anche per fare altra roba però io non vedo la tua roba mi sa eh è bellissimo l'ho ancora messa ah ok è bellissimo bisogna farne un altro allora vabbè aiutato io mi fermo ora che sono già ai 7 e 20 ok via ragazzoni io vi ringrazio per averci seguito tanto continuiamo lo dobbiamo continuare cazzo mangia il pezzo di cervo aspetta cazzo lo dobbiamo continuare questo madonna se lo... ma come si è bruciato non è vero lo dobbiamo trovare i team ma l'ho appena messa ma cosa avevo appena messo a carne di cervo si è bruciata subito cazzo devo resta qui per forza aspetta che mangio e chiudo eeeh ok mica con un colpo oppi oh bolla a posto salviamo salviamo gerry dove cazzo vedi che non me lo trova cazzo cazzo oh ok gg oh fa vedere se si risconnette come... cazzo sto mettendo l'accettante vediamo se scompare il personaggio aspetta uscire mi vedi ancora? no ok scompare Sornasti invece cadeva per terra come un sasso era bellissimo cazzo ma buono ragazzi io vi ringrazio per averci seguito ringrazio anche Liquid per questa... ma è stato bellissimo cazzo voglio tornarci in quelle caverne cazzo madò questo lo continuiamo appena possiamo penso che si salva su di lui perchè lui è l'host del server sì ma penso che il tuo personaggio rimanga comunque non credo proprio che si 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 tolga sarebbe troppo da stronzi ciao a tutti ragazzoni ciao belloni